Cazzati ma adesso si ride Cami Nemmeno se fai l'ort Un cazzicolba i gol Ti dai no Scommetta i roll Perfetto Ok mettiamo le uniche Le ultime parti della mod ragazzi Ci siamo Ok stiamo facendo Oh Zai Quasi messo tutto Sulle madri boys Pec DS Che è successo Oh ma che è successo Ascolta Ma dove sei andato Aspetta 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 che non ti sento Vai dimmi Aspetta un attimo Ma riesci a mutare un secondo la live Giusto al volo Ciao Ma sono sincero ragazzi Passi Vaffanculo Non farlo mai più Ciao Sono entrando sul disco ragazzi E l'ho fatto spaventare Bella per il figlio di blu Grazie mille fratello per i 19 mesi Bella per il mitico Grazie mille fratello per il secondo mese Bella per nexus 23 mesi bello mio Bella per tanita Terzo mese Allora ragazzi ho quasi finito di mettere la mod grafica Questa è la canzone di Eh sapete di chi è Ok Extra vegetation Mods Ok ho quasi finito di metterla Foggy deep and hurricane Si glielo mettiamo Ok questa qui così Uragano Lo mettiamo Abbiamo quasi finito Weapon overpack Mamma mia quante mod sto mettendo Hide qua Night vision no More care engine smoke Si Poi Rolling Call FX Si Dark knights No Vanilla no Mission roll Police No Realistic Licenzi Quasi finito raga Datemi un attimo Nord no Storm no NVE 2000 Bello Si Mettiamo questo L'autunno Abbassiamo l'intensità dei fiocchi di neve Autumn Certo Sempre Ok abbiamo finito Abbiamo finito boys Dovremmo aver finito Dovremmo aver finito Mamma mia ragazzi Mamma mia ragazzi Fake doppia Grazie mille fratello Per il quinto abbonamento Grazie mille Bello mio Allora Ok perfetto Ho aggiornato il titolo ragazzi Drop token Rockstar Attivi Ok ho messo nel titolo che Che i token sono attivi Punta no Oh ma perché qua non mi ha cambiato la categoria Ok la categoria è cambiata boys Perfetto Dovrei aver messo tutta quanta la mod grafica Ecco cosa mancava Dovrei aver finito Perfetto Mod grafica messa Entriamo direttamente in game boys Perfetto Ci siamo Stiamo entrando Ci siamo Bella boys Bella boys Bella tutti quanti In tutte le chat boys Che cacchio si fa Per aumentare Non so Siamo a 98 sub Let's go Grazie mille ragazzi Mamma mia Fake doppia Ragazzi ho fatto il devasto Bella per i mit Con Swaz Swaz Mamma mia che nome Swaz Aboramento di livello 1 per un mese Bella per tanita Terzo mese Bella per i mit Eluziv Benvenuto fratello Ragazzi Avete riscattato il token Scrivetemi quanti Hanno già droppato il token oggi Scrivetemi quanti Hanno già droppato il token oggi Io 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 Let's go Non riesco Eeeh E' a caso ragazzi E' a caso Alcuni di voi L'hanno già droppato Altri ancora no Ok Il token ragazzi si droppa solo ed esclusivamente su Twitch Il token ragazzi si droppa guardando la live su Twitch In pratica Rockstar Games ha messo a disposizione per tutti quelli che guardano le mie live su GTA 5 RP 600.000 abbonamenti Perciò se volete droppare il token per potervi subbare in modo completamente gratuito Dovete guardare la live appunto da Twitch In pratica ci sono dei drop attivi Drop anche se hai la sub Yes Drop anche a quelli che hanno la sub ragazzi Bella Patrizio Grazie mille fratello per i 99 centesimi Patrizio Mua bacione Grazie mille per l'euro Anzi 2 euro Patrizio Grazie mille bello mio Grazie mille Patrizio Sei un pazzo Eh però perché non mi dà schermo intero Adesso fixiamo anche sta roba qua Manadir che fine ha fatto Non lo so Allora so sfigato Punto scamativo token ragazzi Per controllare se avete il token Bisogna cliccare sul link E se vi dà che avete il token Vuol dire che ce l'avete già Bella salvo Grazie mille fratello abbonamento di livello 1 Benvenuto salvo Si vede che appena droppato il token Bello mio Allora Devo capire Però stanno i token Poi dobbiamo alzare Grafica qua Ok Abbiamo sistemato anche la grafica Comunque mi sa che non si ricorda più Che io avevo un altro account Eh no non mi ricordo fratello L'altro account che avevi Non mi ricordo Ciao Alve Eh Samuele Io non sono Alve Samuele Ma che cacchio è sta roba qua che è partita Oh Oh che è sta roba qua che è partita Bella ciao sono io Grazie mille fratello Abbonamento di livello 1 Bella per me dico caro Abbonamento di livello 1 Mamma mia ragazzi Quanta gente sta Sta droppando il token raga Un botto di voi stanno droppando il token Vi ricordo ragazzi Punto esclamativo token Rockstar ha messo a disposizione 600.000 Abbonamenti gratuiti Sotto forma di token In pratica voi dovete prima Riscattare il token Guardando la live su twitch E poi successivamente Vi fa abbonare In modo completamente gratuito E se siete abbonati Potete anche regalare Un abbonamento a chi volete Utilizzando il token In pratica col token Voi o vi potete abbonare O potete regalare un abbonamento Oppure lo potete tenere Per riabbonarvi In modo completamente gratuito Bella Patrizio Grazie mille per aver donato Ancora un euro Patrizio Yeah Sulle madri Uh yeah Così mi piace Sulle madri Così ci piace Wow Sentite come fa Come fa Come fa La canzone come fa Eccolo qua Perfetto Oh perché non mi va Team speak Perché non va il team speak Raga Ok adesso va Sì ma No raga Non mi dire che No raga No raga Oh 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 Sì ma Ma io da qua posso scendere In no clip Sì perché Tanto qua io sono bloccato Ragazzi Non si può scendere da qui Vero Secondo voi Se io faccio così Oddio ragazzi sono un bomber Una scala questa Ehi cazzo non è una scala Secondo voi riesco Oh noi ragazzi La tentiamo La tentiamo Al massimo scendiamo in no clip Perché da qua non si può Bella per il mitico Y Infinity Grazie mille fratello Abbonamento di livello 1 Bella per Kaido Che ha appena regalato l'abbonamento Bella per il mitico A game Grazie mille fratello Abbonamento di livello 1 Fratello grazie del divertimento Che ci regali ogni giorno Grazie mille Bella per Samir Un bacione bello mio Samir Grazie mille fratello Terzo mese da parte di Samir Secondo voi qua c'è una scala? No se scendo qua secondo me mi incastro e non riesco più a salire Noi ragazzi la proviamo da pro che siamo ok? La proviamo Se non riusciamo andiamo in no clip perché vuol dire che non si può Ed è un bug Vorrei scendere Su sto coso qua sotto Vedete sotto che c'è Un bagaglino Secondo voi riusciamo? Secondo me no Però Lo testiamo Andiamo E per me dico Enrico Che ha appena droppato Il token Grazie mille Enrico Un bacione fratello mio Grazie mille Abbonamento di livello 1 Enrico No Non si poteva ragazzi Non si può raga È buggato lì Non si riesce boys Non si riesce Bella per il mitico Not Mike Grazie mille fratello Secondo mese bello mio Un bacione Not Mike Grazie mille fratello per questo secondo mese Bella per Alex Grazie mille fratello Abbonamento di livello 1 Per il terzo mese Alex Bentornato 3 mesi tech Ti ringrazio perché anche questo Perché anche quando sono giù di morale Mi strappi sempre un sorriso E ti si vuole bene Grazie mille Grazie mille Alex Bella per il mitico Drake Bross Grazie mille fratello per il ventesimo Mese Sempre qui Per il grande tech E le sue risate Grazie brother Bella 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 Drake Grazie mille bello mio Allora Prima di tutto ragazzi Prima cosa che facciamo Dobbiamo andarci a prendere Quello che è Avete già capito Il raptor Perfetto Perfetto Allora Dove Dove che pigliamo il raptor E sapete ragazzi dov'è che si comprano le auto Il raptor ragazzi dov'è Punto schiamativo token Ma come vedi male Ellie In che senso vedi male È ancora vivo È ancora vivo Massimino Ellie È ancora vivo Al 7.56 Andiamo a vedere al 7.56 Andiamo Andiamo al 7.56 Andiamo a vedere Bella Mirko Grazie mille fratello Per il quinto mese Mirko Un bacione Mirko Ti siamo a bello mio Grazie mille Mirko Aiuto Scusa ma il 7.56 È il garage centrale bro Ma tu sei sicuro Che qua si comprano Le auto? Ma no Qua ragazzi Non si comprano le auto Nek Meglio il Range Rover Adesso vediamo Bella Claudio Grazie mille Per aver regalato Un abbonamento Claudio Grazie mille Bello mio Grazie mille Claudio Let's go ragazzi Con i token Scusate ma È qua? Ma Ma È qua? No Non è qua ragazzi Non è qua Non è qua A chi è che devo chiedere? A chi è che devo chiedere Se voglio comprare Il Range? Mamma mia FPS Mogno Grazie mille fratello Per aver appena droppato Il token Grazie mille fratello Per aver appena droppato Il token Alla concessionaria Ragazzi Dove sta? 811 Ma sei sicuro Nicolas? Nicolas Aspetto il tuo Prime Bello mio Andiamo a vedere qua Sulle madri Oh yeah Yes Yes Su così Aiuto 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 Dovrebbe essere qui il concessionario raga Porca miseria è sotto Mi sa che è sotto È sotto raga Andiamo a vedere sotto Andiamo a vedere sotto Mamma mia che driftata Niente finita male Mi serve metterli tutto ragazzi Li devo mettere tutto Ruote di ghiaccio Tutto c'è che ruote di ghiaccio Ruote da neve ragazzi perché qua c'è Ma dove cacchio sta Ecco ci mancavano solamente le cuffie scariche Oh c'è uno qua Scusi Salve signore Scusi Sì Eh ma è questo il concessionario che vendi le auto No qui è quello che vende le moto Suzuki E' comprata soltanto per te Com'è? Ma da quando tu non me lo succhi la moto Suzuki la tengo per me Ma chi è che te lo deve succare? Suzuki Non ho capito Dico la moto Suzuki Sì Eh cos'ha fatto la moto Suzuki? Eh niente c'è una canzoncina che fa così No 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 tu hai detto che io vedi che te lo devo succare No 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 Sei sicuro? Oh mio Dio Cos'è quella cosa? E' un tirapugni questo Detto anche raddrizza denti Allora chi deve succare? Chi? Ah Questo cos'è? Quello è un macete Questo è più grosso Eh no 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 In questo caso io faccio le mie scusi Io ho capito male Mettiamo via questa roba che non serve No ma io non volevo fare nulla di che Chi ha detto che succa a chi? Oh mio Dio Chi deve succarlo a chi? Io ho detto moto Suzuki E chi ti scusa? E non è una scusa Posto ci siamo capiti non c'è problema Arrivederci Eh mi dici da dove posso comprare auto 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 che spacca Aiuto signore Mi sta minacciando signore Sì Lo sta minacciando con la mia aura Sì Sì Buonasera Salve ho bisogno? Sì volevo Volevo chiedere un'informazione Mi sa dire dove posso andare a comprare Una bella macchina? La macchina? Non di certo qua Perché qua vendiamo moto No il concessionario Il concessionario cerco E mi sta a dire civico sono nuovo A posto siamo a posto Tutto bene tutto bene fake doppia Tutto bene bello mio E' cambiata la situazione Hai visto Ellie Mi sai dire? Fratello Fratello Bella Martin Grazie mille fratello Buonamento di livello 1 Ha droppato Martin ragazzi Ha droppato il token Tutti quelli che vedete Buonamento di livello 1 Nuovi Hanno droppato il token Come scusa? Ripeti? Alle 875 Sicuro che è lì concessionario? Teoria Penso di sì Ok Ok grazie Avresti qualche moto da prestarmi Capito? Magari me la fai provare Poi mi piace E poi la compro Sono a piedi pure io Eh? Non c'ho niente Non c'ho più niente Una moto qualcosa Capito? A noleggio Non c'è fratello A noleggio? Ok va bene Grazie Nasdrovi Cichibri Ciao bialò Cichibri Eh no raga Non c'è Chiamano Massimino Chiamano Massimino Un attimo Un attimo Che devo andare a piare La macchina Massimino ragazzi Prima mi ha chiesto Ma dove si prende l'auto Non gli dico niente Arrivo con l'auto Che la flexo Che così si triggera Mamma mia ragazzi Come pattinano le macchine Mamma mia Come pattinano le macchine Grande tech A te fa pagare Vuol dire Vuol dire che non hai ancora Droppato il token Purca miseria ragazzi Guardate Raga Sembra tipo Lo script del drift Chi è ragazzi Che si ricorda Lo script del drift Guardate qua Guardate qua Come cacchio fa l'auto Cioè Drifta di brutto l'auto Io Grande Grande Gabriel In teoria Dovrebbe essere questo Il concessionario Raga Però Però mi sa che qua Non è fatto a concessionario Era quello Il concessionario Oddio Jacopo Grazie mille Bello mio Apparamento di livello 1 E ha droppato pure Jacopo Ragazzi Kit drift Esatto Ha droppato pure Jacopo Grazie mille Jacopo Namamo 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 Mamma mia Grazie mille per il mitico Baby Baby Jaddy Ha droppato pure Baby Jaddy Baby Jaddy Ma sei un maschio O sei una ragazza Are you Are you a boy Or are you a girl Are you a boy Or are you a girl La centralina Da drift Esatto Punto ischiamativo token Buonasera 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 Andre Ecco ma si può fare L'abbonamento da youtube Yes Certo Urca Questo che mi spara adesso Allora Uy Ricky Aspetto il tuo prime Bello mio E questo Ragazzi ma Oh ma mi stanno prendendo in giro Questi ragazzi Ma qua non c'è niente Qua raga non c'è niente Oh ma ci ha preso in giro Quello raga Ragazzi ma ci hanno preso Porco duro Adesso Adesso mi incazzo di brutto Quell'infame ragazzi Ci ha preso in giro Ah qua E questo E grotti E grotti Automobile E questo E qua Bene per il mitico ZRK MBP Grazie mille Bello mio Ma non c'è nessuno raga Uh Listino Ah Attenzione ragazzi Parte interessante qui Allora No Tutta Tutta Aspettate che mi stanno spegnendo le cuffie Che mettiamo in carica Perfetto Stai zitta Va Ah è bellissimo Allora Queste no Queste no Sportive no No Sportive classiche no Camion no SUV Attenzione Qua abbiamo dei bei SUV ragazzi Abbiamo Il granger Che è questo Che non ci piace Però comunque che qua si può andare in sei Ok Allora Statistiche Poi ci abbiamo questo L'astron Sì ma Dove sono quelli bit Guardate questo qua ragazzi Che ignorante Special Stanno in special Giusto Questa ragazzi Mi sa Mi sa che sono quelle bit Giusto Sì 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 Sono queste mi sa Sì 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 Sono queste Attenzione Cerchiamo qualcosa che spacca ragazzi Dove sta Fuoristrada Mi sa vero È su fuoristrada Bella per Calix Grazie mille Bello mio Un bacione Grazie mille fratello Per il quinto mese Calix È qua ragazzi È qua ragazzi vero In fuoristrada Eccoli qua Eccoli qua L'ignoranza ragazzi Che regna sovrana Ne ho visto uno ragazzi Che è interessante Allora Questo Sembra avere delle belle Ruotone Questo è una bella frenata Accelerazione Buona Vediamo qual è quello Che statisticamente Va più veloce Poi c'è questo Attualmente questo Sembra quello lì Con l'accelerazione E velocità massima Maggiore Però adesso vediamo Mamma mia Fake doppia Appena regalato Un altro abbonamento Bello mio Un bacione 115 abbonamenti Abbiamo fatto oggi boys Poi c'è questo Che però in confronto a questo Fa schifo Questo ragazzi Che roba è sto coso Raga Questo c'è un'accelerazione È una velocità massima Incredibile Sto coso qua Guardateli a confronto Questo È però Oh ragà Accelerazione È quella che ci interessa Velocità massima Sti cavoli Però questo Frena da schifo Questo Questo ragazzi Frena da schifo Però c'è un'accelerazione Incredibile Questo ragazzi È un'accelerazione Che Fermi 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 Che qua ne vedo altre De roba interessante Questo è super lento Abbiamo sto coso qua Che è sto coso Comunque non è chissà Quale accelerazione Questo Questo ragazzi È il raptor Aspettate 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 Che abbiamo Altra roba Qui Wait 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 Questo è quello Che abbiamo visto Prima Questo secondo voi Che è sto sbocco Secondo voi Questo sulla neve Va bene O va male Questo qua sulla neve Secondo voi Amir Grazie mille fratello Amir Amir fra Appena droppato il token Grazie mille Bello mio Bella per il mitico De voto 5 Grazie mille fratello Amir Di livello 1 Appena droppato il token Grazie mille bro Un bacione Secondo voi boys Male male Allora Quello che Attualmente È una bomba ragazzi È questo Quattro posti Secondo me Provala Urca Oh 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 No raga No No Non mi dire che non la posso provare No No raga Non me lo fa provare No Appena entro ragazzi Mi butta fuori Perché sono troppe persone Che stanno provando lì No ragazzi Lo vorremmo provare Scusate Mi dite il civico Dove cavolo è Che si sta provando È qua raga Dov'è che si stava provando Mamma mia Per il mitico Mamma bravo Grazie mille Bello mio Mi sa che Troppato il token Era appena utilizzato Per regalare 786 786 Questo posto Qual era 875 Ma non esiste Fra Ma dov'è che era Ragazzi Dovrebbe essere qua Tipo no 893 Ragazzi Facciamo sta roba Perché c'è un piccolo bug Ma dove stanno Ma non è che non si provano qui No raga Mi sa Mi sa che non si prova qui Non è qua Ragazzi Non è qua Ma che vuoi Shelly Porco duro Cosa vuoi Eccole 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 Ciao Siamo ben fatta Aia Via Porca miseria Che botta Aspettavo che le togliamo Queste Allora Facciamo il test Senza full kit Senza niente Allora Non penso Abbia le ruote Da neve Attualmente però Ragazzi Sta aggrappato eh Guardate ragazzi In un drift Sta aggrappato Solamente che fa delle curve Che sono fatte col compasso Ragazzi Attualmente ragazzi Sembra quello che Che ha Che ha più Cioè che ha più accelerazione In assoluto Ma non è beat questa Come no Come no Ma sei sicuro che non è beat No Ah no Allora se non è beat Se non è beat Nemmeno compro Dov'è che stava La concessionaria Perché in questo momento È come se noi Siamo nel listino Ragazzi Dov'era la concessionaria Perfetto Ci siamo persi Ci siamo persi Ragazzi Eccola qua Perfetto Siete sicuri? Allora per me Saffuz Grazie mille fratello Paramento di livello 1 Saffuz Costa 400.000 Ah ho capito Eli Allora fammi Fammi un attimo Allora E dove sono quelli beats Raga Scusa ma Allora Nessuno di questi è beats Dove stanno quelli beats Dove stanno quelli beats Raga Eh raga ma Ma dove stanno? Speciali? Eh non c'è Eh ho capito Siamo già in special Ma tutte queste costano? Vedete? Tutte costano Sono queste quelle beats Raga Non vedete che costano 550.000 Comunque c'hanno il prezzo Premi la E Sono queste raga Per forza Sono queste quelle beats Raga Ma voi dite che non sono queste? Ma sai che sono queste raga? Porco duro Sono queste No? Ah il 651 Quello beat Ma porco duro Ma porco duro Ma porco duro 651 E come ci arrivo io mo? 651 Fatto Aspettate che mi dicono Guarda discord Ah ma ho capito Ma ho capito ragazzi Ma ci sono arrivato Bella Marco Grazie mille fratello Buonamento di livello 1 Per 6 mesi Marco Let's go Bacione Sub con il token Grazie mille Marco Bello mio Bella per il mitico Daniele Grazie mille fratello Buonamento di livello 1 Per il terzo mese Dani Ti si ama Bello mio Grazie mille bro Aspettate Mi dicono guarda discord Che cosa vogliono da me su discord 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 Ok Allora Fatemi vedere su discord Ah Eccole qua Eccole qua Ma si può far vedere Sta roba qua in live Shelly Si può far vedere Scusa ma non basta che vado Al 651 Ma eh Ma le trovo anche nel listino Senza guardarle su discord Le trovo sul listino Serve un po' di vaporart Ok adesso ci vado Mamma mia Imeco 10 abbonamenti ragazzi Troppati dai Imeco Ma chi è Ma chi è sto pazzo Ragazzi Ma chi è sto pazzo Che è entrato così Live A gamba attesa 10 abbonamenti regalati così Ma chi è Imeco Ragazzi ma Ma chi è Ma è nuovo Sono La ragazza della games week No no Allora Allora Se tu mi dici Sono la ragazza Yvonne 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 Un attimo Un attimo Ok Ho un vuoto di memoria Chi è Yvonne Chi è Yvonne Dei balla Era in pizzeria con noi Yvonne Un attimo Un attimo Allora ragazzi Voi dovete Yvonne Scusami Io faccio davvero Cagare con i nomi Mi sento in imbarazzo In questo momento Seduta vicino a Steve Vabbè minchia Minchia Shelly Mi hai dato proprio Delle indicazioni Seduta vicino a Steve Ma io non mi ricordo Chi c'era vicino a Steve Io conosco Marisa Non ho capito Descriviti Descriviti Come sei fatta I capelli Biondi Scuri Mori Non me Non me Non me Non me Oh aspetta che c'ho I nomi attivi Non mi Tanta roba In che senso Vannel Porca miseria questo Porco duro L'abbiamo preso Mi devo Mi devo Mi I need I need Help I need help La ragazza della clip Della macchina Del Ciliad Sei quella bionda Sei quella bionda Bella Nico Grazie mille Bello mio Abbonamento di livello 1 Per 6 mesi Grazie mille Bello mio Si vede che appena Troppato il toque Sei quella bionda Ok Ok Ora mi ricordo Ora mi ricordo Grazie mille per questi Abbonamenti droppati Un bacione ragazzi Spandi GG per Yvonne Ragazzi Spandi GG Voglio qua GG la chat ragazzi Che deve volare Deve volare la chat Grazie mille Yvonne Grazie mille Non dovevi Grazie mille 10 abbonamenti droppati così Le sghere Allora Aspetta Allora Ragazzi Io devo capire Dov'è che devo andare a droppare I miei soldi Il mio denaro Devo capire dov'è che devo andare a riempire le tasche di Alveac in questo momento E del server Ecco qua Ecco qua il concessionario E questo è il concessionario Autobitz Questo No è dall'altra parte Ok Grazie mille Yvonne Beatrix ragazzi In questo momento non c'è Perché mi ha detto che ha mal di testa Beatrix Perché ieri Beatrix ha passato una serata insieme a Dahlia E gli è venuta il mal di testa Allora Lasciamo il veicolo qua Se no poi ci rubano il veicolo che abbiamo rubato Mi serve un po' di sigaretta elettronica Vaporart ragazzi Mi serve un po' di liquido Vaporart Perché sono stressato Wait wait Dove cavolo si entra? Mamma mia raga Che nabbo che sono Che boomer No raga adesso Adesso io mi sto triggerando perché Oh È ancora più in là Eccolo Uh cosa vedo da qui ragazzi? Concessionario 651 Radio 651 Ah Dobbiamo Dobbiamo comunicar Allora Radio 651 giusto? Perfetto Allora Pigliamo la radio E chiamiamo Adesso prendiamo la radio e chiamiamo Calma Grazie mille Shelly che hai regalato un abbonamento Grazie mille Allora calmi Hai droppato il token Shelly Allora un attimo Radio Con calma Dove cazzo è la radio? Mamma mia hanno fottuto la radio Eccola qua Mamma mia come mi sta laggando tutto Figliamo radio Oh Ti devi spostare La radio qui Perfetto Calma 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 Keep calm boys Keep calm 3 Adesso spacco tutto perché Allora 3 Ok signor Deve acquistare? Sì salvi salvi Ciao bellissimo signori Eh 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 Sì a parole sue Ma Eh Eh Proprio lei Proprio lei chi? Mi serve Mi serve comprare auto Gentilmente Devo Mi ha minacciato Io No Quello di quello che era Ali Vabbè Faccia finta Che non è successo niente Cosa da acquistare Ma scusa ma tu lavori qua? Sì Brutto pezzo di merda Io prima ti ho beccato E ti ho chiesto dove è che posso andare a comprare auto E tu mi hai detto che non lo sapevi No Tu mi hai detto se era lì Era il congestionario di No No Dopo io ti ho detto Sai dove posso andare a comprare auto E tu mi fai No Non lo so perché qua Oh tu fai il furpo eh Tu fai il furpo No 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 Ascolta Riniziamo nuova Non ci preoccupare di Riniziamo nuova conoscenza Salve Ciao Bielo Io mi chiamo E tu? Io mi chiamo Erminio Come? Erminio Erminio? No Erminio Erminio? Sì Erminio Tonie? Esattamente Ascolta Erminio Erminio Ermelio Erminio Ermelio Ascolta Erminio Vedi che c'è neve? La via di fuori Tutto pieno di neve Ascolta Erminio Mi serve che mi trovi una bella auto Che aggrappa strada Con ruote da neve Capisci che io Che io non devo più scivolare Un bel SUV Capisci? Va bene Suppongo Vuole comprare un fuoristrada Più sto Ti ho appena detto SUV Erminio Erminio Ti ho appena detto SUV Fracielo SUV Però devi cambiare le ruote Poi Sì Aspetta Però io c'ho una domanda No? Sì Allora se adesso io compro auto normale E le cambio gomme Si aggrappa Anche sì Oppure è meglio SUV Comunque Oh bello Massimino Vabbè anche una macchina normale Buona Ma che ci fai qua? Dipende Se cambia anche le ruote Allora ci stanno Sì però 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 Erminio Erminio Allora La mia domanda È semplice Ok Allora Sì Secondo te Qual è quella che aggrappa di più Tra auto normale Con Sicuramente Sì Con Cioè auto normale Con ruote di neve Oppure Fuoristrada con Con ruote di neve Hai capito? Mi senti Mi senti Aggrappa di più sicuramente Un fuoristrada Braxari Grazie mille per te L'appamento di livello 1 Hai droppato il token Ti senti? Sì Ti sento Ti sento Ma il telefono Dove te lo sei infilato Spiegami Che ti chiamo da 40 minuti E tu non mi rispondi mai Ma Ma Perché Perché È perché L'altro telefono L'altro telefono Porche durin Devi darmi il numero poi Porche durin De la core Grazie mille fratello per il quinto mese Cor Bello mio Un bacione Sì 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 Ascolta ascolta E Erminio Qual è Il SUV top che c'è di gamma Il SUV top Frecchialosa Il SUV top è il toros Eh? Il toros Il toros? Sì Ma Dicevano che era il raptor No Non è vero? No Ma se parla di SUV È il toros Se parla di fuoristrada È il dragur Ok ok Ascolta ascolta Essendo che sono un pochino Ignorantino In maniera In materia Dove c'è un listino Qua posso vedere il listino Provare Capisci Con male schiacciare pedale C'è il tag Grazie Lo può anche guardare Ma ascolta Grazie Erminio C'è il ranger over? È il ranger over? No Abbiamo un simile ranger over Allora Keep calm boys Ok Ok ragazzi Ok Ok ragazzi Ok Ma Che stiamo Perché stai facendo Anche voi state guardando Oh pezzo di merda Cosa Mi lasci Mi lasci scegliere Il nuovo range Il nuovo range Comprato un po' per me Un po' per te Dai Hai nemmeno te Oh Allora Salve SUV Salve Oh ascolta Erminio Tony Mi dici Mi dici dove trovi SUV Salve Ma lei che cosa sta facendo Questo dorme ragazzi Questo dorme È tanto parlare con Massimino Ma come si chiama lei? Ma da quando mi scusi? Sì 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 Ma è impossibile È impossibile perché ieri sono passato Ed era qua lei Di nuovo È calogero Ma ciupa al massimo Sì sì ciupa ciupa È l'avvocato no ciupa? È l'avvocato ciupa? Capito Oh ma mi senti Oh ma mi senti o mi senti Sì sì Mi sento Questo frena di brutto Non è Il fatto è che siccome Io lo vorrò sempre da qui Non l'ho vista mai Quindi Ma dove cacchio è sta roba ragazzi? Devi andare su special Andiamo su special No special ragazzi Ci saranno altre auto su special Vedete? Ma sono le stesse che c'erano di là Ma sono le stesse auto che c'erano di là Comunque si vede Chiamiti Alex Sutta Giusto mi hai detto? Ciupa calogero Si vede comunque C'è una bella ragazza Bella bobo Grazie mille fratello Per i 27 mesi Oh calogero Calogero No erminio Erminio Minio Ottone Minio Erminio Ottone Vai di erminio Erminio Ottone Oh Ma dove cacchio è andato? Ma dove è andato? È lì Oh Guarda una sera Guarda qua Dove è l'estima qua Oh erminio Oh dimmi Allora Oh erminio Ascolta Io devo prendere il nuovo range Però però Mi devi ascoltare erminio Perché mi sto nervosiendo Erminio Dica Dica pure Non si può così Io voglio beat Si esprimano le sue Io voglio beat Beat Allora lei deve guardare Allora la categoria special Ok E quella è la categoria special? Si Trova tutte le macchine spari Ok E quali sono quelle che hai detto tu migliori? Ehm Si è Vabbè sono Ma di che categoria parli tu? Bitch Fratello Suf Bitch Oppure poi strada Bitch Mi sta citando Dove? Ripeti con calma Hai detto suf Allora No Su categoria special Lì trovo le auto Importate E le altre customizzate Con i sound custom Ok Sì Ok Sono lì Poi? E poi Se vuoi qualcosa di importato Non c'è altro Tra quella categoria Ma 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 tu sei del mestiere Oppure no Fraccialo Ma sei del mestiere? Se tu mi stai dicendo Che vuoi qualcosa di importato In quella categoria C'è qualcosa di importato Ma oltre a quella categoria Ti piace quel signore? Di importato E' importato Ma E' questa come Oh questo 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 qua Erminchio Erminchio Porco duro Questo lo vedi Erminchio? Posso darla io Vado da lei L'aiuto a lei direttamente Ma Erminchio Ma io ho guardato qua Nel fascicolo Qua non c'è una minchia Erminchio Ho capito Un ragione Scopo cudo Deve chiedere al governo Capisce? Al comune No Questo è il raptor Range Rover Eh sì Range Rover Sì 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 Lascia vedere un attimo Ascolta Sto controllando Mie liste Sì ma da dove sei entrata? È qua Oh scusi signorina No no Voglio solo provare Giro di prova Porca miseria Porca miseria Si spinge sto coso Porco duro Si spinge Oh aiuto Inseguimento subito Ah no Ok Non mi sta inseguendo Ed è senza gomme È senza gomme Raga Spinge di brutto Sulla neve sto coso Ed è senza gomme È da neve Senza Senza gomme Spinge come un toro Questo Oddio Vigolo cieco Ah no Di là Questo spinge Questo spinge No questo qua C'ha più posti Ragazzi Secondo me Sei posti sto coso Guardate qua Si spinge Brum pum 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 Peno Deo Nuovo range Mi serve un liquido Ce l'avete? Anche a me serve il liquido C'è mentos Comunque Questo qua c'è E poi c'è un altro Con ruota Quale è Quale è Quale è Quale è quello meglio C'è un controllo Nell'estino Ciao aia Scopo culo Ma tu sei? Tu sei Ciao aia Io sono sei Ehm Where is Where is L'altro L'altro Ok uno Uno è questo Uno è questo Raptor Ok Sì sto controllando Nell'esta Ok aspetta che voglio vedere anche io L'esta Continua Continua La lista ragazzi è qua Vi faccio vedere la lista ragazzi Vi faccio vedere la lista Questa ragazzi è la lista Che me l'ha mandata Allora Questa ragazzi sono tutte le auto Beats Ascolti Range Rover non esiste Eh esiste Che? Come ne dite Range Rover? Ma è impossibile Ascolta me C'è controlla bene Guardiamo insieme boys E suv Cos'hai di suv? Sì Ti viene con l'invito Guardiamo insieme Attimo che controllo Wait Allora Charger no Vero sta roba Non ci interessa Suv Suv Ma che ma per me Ok ok Let's go Tieni che ti vedo un po' stressato Eh sì grazie Passa passa Ok grazie Aspettate che di qua non si vede Ok Allora Veloce Raptor 1 Oh c'è il Mercedes C'ha ragione lui C'è il Mercedes G63 AMG Ma c'è anche il Range Rover Aia Tu hai visto Deppiato G63 Oh ma ti vuoi prendere l'AMG 275 Oh ma ti vuoi prendere l'AMG Che è questo qui Per davvero Oh prenditi l'AMG Che così facciamo Siamo in 4 200 su l'AMG Ok Faccio un casino ragazzi Sì Paypal Mi puoi controllare se c'è Oh ma i miei rotti Coglioni Oh Massimeno mi senti Sì ti sento Ma senti che fa uno Ascolta Massimeno Prenditi il Mercedes G63 AMG Volevo cambiare Ah Devo Cazzo Signora Ma lo vede dov'è Qua davanti Un attimo Oh Massimeno Massimeno mi senti Sì Ascolta Prenditi l'AMG Ok Basta Ce l'avevo già nella Basta E qui l'AMG No Prendi l'AMG Così mentre andiamo ad assaltare Mettiamo Siamo in 4 200 su l'AMG Entro in studio Di giochi Allora io l'ho messo qui davanti Quello che dice lui Ragazzi di SUV Di SUV non ce ne sono altri Raga Oh Il mini monster truck Porco duro Ingroppo le auto Quel mini monster truck Il mini Oh c'è anche il mini raptor Mi fai vedere il mini raptor Signorita Eh Il codice signore Un attimo Ma poi me lo spiega Da dove le prende Quest'auto Lei Ma ti faccio Cazzino Scusi Lei non sta aiutando Il clientela Io sto aiutando Oh Ho trovato Ho trovato un'altra Si chiama RAM1500 È un SUV È un SUV tutto bello Che ho modificato Con interni Blu Marabunta Era quello che volevo Farvi vedere signore Ma non lo so Eh signore Mi faccia vedere però Mi faccia vedere Mi faccia vedere Che cosa devo fare vedere Eh quello che ha appena Richiesto il signore Essendo che lei comunque Lavora qui Sarebbe Glielo dica signore Aio Oh ma la macchina è gratis Grazie a rivederci Mi senti signore Sarebbe sì Cerca RAM1500 Oh ma avete rotti coglioni A prendere una macchina Ma avete rotti coglioni Pezzi Grand Rover Sport Prova di Grand Rover Sport Oh signore No Ma che cazzo Si è truccati gli occhi Lei per Dio Io No Mi ha appena tirato un pugno Capisce Capisce Non capisco Se non lo vuoi Se non lo vuoi Non capisco Allora questo qua Avrei stato richiesto Un attimo Spostatevi per favore Non vorrei farvi male Ma la trovate il Range Rover? Ah bello Oh aiuto Non vedo niente Questo è bello Questo è il Range Rover L'ultima generazione Placcato oro Con Smeraldi Oh esperta Fa provare Fa provare Perché mi sa che ho già provato Ed è uno sbocco questo eh C'è anche il colore Che volete C'è Dai fai sali Aia Portami a fare un giro Sì Vieni Aspetta che scendo di qua Aspetta che Eh notti i coglioni Sali 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 Ma se ti stai fermo Salgo per Dio Ah ma tu non sei ancora salito Mamma mia Mamma mia Ciao Oh Tutti quanti urla Siamo in 4 A 200 Sulle L'MG Ma che canzone è fra Massimino fa schifo sto coso eh Ma mi piace Capisci per la neve è be' comodo No 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 Massimino Non curva Guarda guarda eh Guarda curvo No no Massimino Porco duro Gliel'abbiamo ammaccato Guarda guarda Guida 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 Massimino Accelerazione fa schifo Vai Tieni Prenditi l'MG Massimino Vai vai Guarda Accelera È lento Dove vai Vai Ma non va un cazzo Ma ce l'ho detto È una porta stavano C'era C'era il tasto per accelerare Il tasto Il pedale Ma è meglio il G63 Ragazza Oh prenditi l'MG Vedilo vedilo Oh comunque lo sai che c'è anche Mini Raptor Lui vuole provare Mini Raptor Mi ne ho detto Grazie mille fratello Apparamento con il Prime Benvenuto bello mio Scusate ma io Scusate ma io Aia 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 Porco duro Signorina Signori abbiamo anche questo che è un Raptor di ultima generazione Oh bello questo È il Mini Raptor questo È il Mini È il Mini Raptor No no Questo è Raptor Oh scendi 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 fa provare a me Sette posti Mi dica mi dica signorita Fa consulenza lei no No ma io sono esperto di Raptor Capisci Io ho fatto un sacco di lavori con Raptor Sì dimmi dimmi È quello di ultima generazione che aveva comprato anche tanto tempo fa Ah sì Guarda lì che c'è posto Porco duro Massimi Sono un cazzo di autobus Massimi sali sali Vai vai L'abbiamo trovato ragazzi Mamma mia No vai 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 Quanto sei disposto a spendere Tutto quello che c'è da spendere per questo Ok va bene Sì sì Oh è lato il cazzo Albanese Vedi Massimino Oh fai conto che non c'è ancora full kit E non ha ancora le Le ruote Eh ma col full kit non diventa un Decepticon poi No porco duro questo qua fratello vedi che va Oh ascolta Massimino Questo è l'auto che ho sempre usato Nel mio passato capito Che schifo che fai Pucci Stai fermo Ma chi Questo qua che lecca Guarda qua guarda qua Massimino Lo vedi Guarda qua Guarda lo sto facendo a destra e a sinistra Oh lo vedi che è come morde asfalto E non c'è ancora ruote sminchiate capito Guarda poi arrivi freni Frena subito Capito C'è subito per dire Perché devo cambiare gomme dai Poi dopo guarda qua C'è la Fratello fidati che questo tu C'è Tu vedi che ci metti ruote giganti Questo vola Hai capito Meglio l'AMG però Meglio l'AMG Eh tu prendite l'AMG Io prendo questo Sì dai prende l'AMG Eh me ne porto 7 con me porco duro Eh che vai in geni in 6 capisci Oh è sporco eh Bisogna pulire Oh tinetevi Porco Oh cazzo Che cazzo fare Ma che mi siete impazziti Oh scusi signor Prince Non ti ho visto Prince Scusa Ma che cavolo avete fatto? Oh Non ha frenato Siamo finiti sopra A un monumento Scusa ma siete arrivati da di là? Eh sì perché Eh sì c'è un salto lì Prince C'è un salto Beh Adam grazie mille fratello Meri 21 mesi Ma siete riusciti da di dentro Non ha frenato No no E chi lì c'è un salto signore C'è un salto Prince Sì non ha frenato E siamo volati dritti Eh sì Eh si sono rotto Ma che cosa Che ho preso Cacchio che botta che ho preso Eh Ci scusi E io Stiamo provando le auto per comprare Capisci Esatto Stavamo provando questo nuovo raptor a 6 posti Eh vi chiedo scusa Meno me che non mi ha preso sotto nessuno Perché No 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 Per fortuna Ma voi vi siete fatti male però È un po' È un po' Perché io ero sopra la cappotta Oh L'altro c'ha 8 posti Andiamo a provare l'altro State bene ragazzi Tutto a posto no? Sì sì Tutto a posto Sì Bene Eh chiediamo scusa Eh arrivederci 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 Massimilio Lasciami il tuo numero Ma mica stavamo lavorando Amica Facciamo veramente No 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 Qua dietro non ci sto Qua dietro non ci sto Oh oh Guarda Senza portiere si può salire prima Ho detto la parola ignorante No Ragazzi è stato bello Buonasera signori Ciao Una brutta fine E Massimilio non lo prendi? Vabbè È lì dietro Tranquillo tranquillo Oh mi rimetti il civico? È qua dietro Dritto Ascolta C'è un problema Mi senti Non voglio urlare Allora Noi siamo contro Suo principe Tra virgolette Ok Perché facciamo parte Di un'altra Ma cosa Prince è stato Gentilissimo con me Che cosa c'entra? No non siamo Per Prince Però ma che sei Su un favore E ci paga Io lo vogliamo fare E certo Aspetta ma Se lo facciamo Ci mettiamo In mezzo ai casini Con altri? Non penso Cioè È una questione di soldi Cazzo me ne frega Ma Cazzo me ne Cioè È come quando Ciccio Ma va rapito Perché sto Principe Gli ha qualche Sto Bu Non lo so Come funziona Secondo me È meglio l'altro Di Raptor Secondo me Aggrappa di più strada L'altro Sai E forse E forse C'è otto posti Andiamo a vedere Ma perché non ci pigliamo Tutte e due Il G6 Ma che Ma che L'MG Oh no No Spostate Oh Andate a parcheggiare Dientro Ragazzi Lasciatelo pure fuori Che hanno già presi Alte due Per farvi scegliere Quale volete Allora Sì signorina Spiega Il mio consiglio Vivissimo è questo qui davanti Che sarebbe a quattro ruote E non sei perché Va molto più veloce Questo? Sì Molto molto Ma scusa ma è quello di prima Invece Veloci Raptor Va un pochino più lento Ah è un veloci Mamma mia che pano Oh ma quanti posti ha questo? Sempre uguali alle altre Sei? Sì Prova prova Salire Sì Comunque questo qua Va più veloce Dici? Sì Io so che quello Va più veloce Però fate test Che volete Ma sei sicura Che non ha solamente Quattro posti? Torco due Controllo Controllo Grazie E niente No Mi sa che ha più più posti Un attimo Fammi controllare Salite tutti Per favore Sì questi ne ha otto Ne ha otto questi Ma chi ha otto Oh Ne ha otto Ma non ne ha otto Ma se prima Stavo facendo salo Eh ma non posso dire Ok allora Sennò solamente Caccio posti Ok Allora Solo quattro Fammi riprovare questo Attenzione Oh fratello scendi Scendi che voli Scendi che voli Non scendi perché se voli Veramente col cucchiaino Ti raccogliamo Senti andato Eh beh scemo Eh ma quando uno è cuno è cuno Questo fratello guarda Guarda che fa cento volte Di più dell'altro eh Senti senti Sì sì perché questo qua C'è sei ruote motrici Guarda Guarda eh Guarda Da fermo Senti il bestione Lo senti Sì eh Guarda Tre due uno Guarda Vieni Porco duro si è va Hai visto Ed è senza full kit Merda Questo cammina E questo cammina Puoi frenare Non frena niente Però Però questo sale Hai capito Eh secondo me Questo spinge eh Guarda guarda qua Guarda qua Guarda qua Vedi Secondo Secondo te com'è Sai che ti dico io Eh Che se lo prendo anche io Questo io lo lascio ai ragazzi Quando andiamo Io beco con te Capisci Che questo Al momento sicuramente Va meglio che Auto normale Hai capito Rimettimi Civico mi son perso Destra Però però Se è così Eh voglio provare Mini Raptor Sì ragazzi Dobbiamo anche provare Mini Raptor Come? È quello di prima Che abbiamo provato Il Mini Raptor Ma sei sicuro? Sì sì Fra Ma sei sicuro? Sì sì Quello è quello Sarebbe quello da sei Eh ma il problema È che questo C'è solamente Quattro posti Ho dietro Ciriano O no? Che cazzo me ne faccio Allora C'è Hai capito il mio discorso Qual'è? Eh sì Cioè non lo prendiamo Per avere qualche posto In più se si prende Cioè Prendilo Prendilo Ma range Lascialo qua Qua Io non me lo prendo Ma scusi Ma scusi signorina Ma qua non si può andare Dietro su questo? Eh no Purtroppo è un difetto Di fabbrichina In questo invece sì? Sì in questo È in sette otto posti Quant'è? Uno due tre Quattro cinque Oh Massimino Sali sull'altro Che facciamo uno sparo E vediamo Qual'è quello Che va più veloce Quattro a giù Vai Andiamo Attenzione Attenzione Vediamo ragazzi Qual'è quello Che Vai piano che ha paura Tranquillo E con queste? No no Non la gradisco Una serrante in faccia Non ho io paura Oh dammi tu il via Massimino 3 2 1 Vai È troppo duro Se va più quello Hai visto? Eh Mille volte quello Va Sì Però è quella Da quattro posti Questo da sai Oh Rifacciamo Oh 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 Salite tutti nell'altro Va bene Uno da me Uno da me Mi serve uno Solo a me Dammi uno Vai uno Certo Ok Poi qui Guarda che non sale Vai Dammi il via 3 2 1 Boom No è più veloce Eh sì È più veloce Quello Vedi Avevo ragione E spingi Vai Vai via da là Aspetta aspetta Guarda guarda Sì raga spinge meglio l'altro Oddio non vedo niente Allora signori Allora signori Una promozione Un pacchetto Sì Vero Allora Se comprate due raptor C'è questa in omaggio Salvo Ma ficatela nel culo questa Ma dacci l'MG al posto di questa Ma quella La potete Allora faccia così Signorina Faccia così Mi prende un raptor E il Lamborghini Grazie Oh Mini raptor Mini raptor Dov'è Dov'è Mini raptor Mini raptor è fuori commercio Solo per bambastici Che è stato Ok È RAM 1500 Eh quello È un problema Se qualcuno mi aiuta Perché aspetta I miei colleghi Sono un po' d'ini No l'MG ragazzi L'abbiamo già provato Eh quello non c'è codice plus Ah L'ho provato Aspetti Aspetti Prova prova Massimi Chiedi lì per l'Audi RS7 Ah no L'URUS ragazzi Non va Non va L'RS7 Ci volano troppo Ragazzi Ci servono ruote giganti Ruote giganti Ragazzi servono Perché si scivola troppo Ragazzi Ragazzi avete da bere Da mangiare Sì no Ma l'MG ragazzi Non va Chissà che C'è questo ragazzi Un bestione Porco duro Si spinge sulla neve Questo coso Perché non mi piacciono Questi due Eh no Voglio solo provare RAM per sicurezza Dimmi Oh ma chi è che mi ha chiamato Io io Dimmi Ti piace più Audi O Mercedes Mercedes Bravo Dimmi 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 Mercedes GLS Quando arriverà l'altra La chiamerò al telefono Mi dica per adesso Quale vuole Ok questo Quello blu vero Quello otto posti Due posti E quattro posti Sì 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 Eh va bene Allora procediamo La rimozione Sì Bene premisi con GG Vivo Grazie mille fratello Per il secondo mese Bello mio Abbacione Grazie mille fratello Bentornato Bentornato Eh jumper Jumper però È quello che va più veloce E se con il bonus Chi se ne frega Se ha quattro posti Bro È quello che va più veloce Al momento Quindi ne acquistate due Eh sì Puglia Lamborghini Giusto Signore Sì Io voglio quello Quello lì A tot posti Ok Quanti tot Sei o quello da quattro Quello da quattro Che c'ha sei ruote Oh Va bene Allora venga qui da solo Che dobbiamo fare il contratto Va bene Premi Per davvero Eccomi Allora Nomi cognome 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 Sì Scrivo un po' a caso Ma ti stanno facendo male Che succede Date di nascita No stavo dicendo Nomi cognome 207 del 96 Perfetto Ah ok Ah lei risulta già cliente Plus Eh certo Con tutto quello che hai speso Ok Allora Io sto facendo Questo pacchetto di due Deve andare Dal concessionario Deve fare il full kit E dire che Gliel'ha Regalato Un bonus Card Alveia Che c'è scritto Ok 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 Perché ha il costo Di 200 Porco duro Quanto? 200 Aspetta allora Perfetto Le sub fatte oggi Già partono Va bene Sì sì va bene Scusa ma non fai Sconticino no Ascolta fai così Tieniti la Lamborghini E facci lo sconto Sì Ok E chiedi se ci fanno sconto 180 posso fare Però Senza Lamborghini Ok Il G63 voglio Eh quello là signore Ha un costo di 100 Eh beh Con la Lamborghini Sempre 80 Eh no no La Lamborghini se la tengono Ci fanno lo sconto Eh appunto esatto Allora diciamo che Lui deve scegliere G63 Cosa scelghi? Eh ma tra cosa? Raptor G63 Quella 2 Allora scelgli due Raptori Ok E il G63 per lui No no Io prendo un Raptor Ne prendo due Oh Un Raptor E il G63 Due auto solo vogliamo Ah ok Solo 100 Sì 80 80 Allora va bene Va bene 80 Eh Raptor Ma G63 Lei non c'ha plus Pari con lui Eh tu Eh tu non c'hai plus Zio non c'hai plus Tu non c'hai plus Mi fate incazzare Perché mi incazzo Mi 10 G63 Signore devi parlare Ma che con la Lambo ragazzi Che arrivo a spendere un botto Ma mi 10 G63 Non si preoccupi lei Va bene allora Procediamo con l'acquisto Del Veloci Raptor Grazie Ok Allora Fammi vedere Ma che con la Lambo Pro che costa un botto Ragazzi abbiamo fatto Il sub goal Di prendere Il Raptor Lo stiamo prendendo Lei è questo signore Natto 29 Nella Aia Se profuma Asta ragazza Cos'è che dici tu Prova a sentire Se profuma Ma siamo quasi A 200 sub oggi Non lo so Non l'ho visto ragazzi Ecco a lei signore No Siamo ancora a 141 Siamo lontani Minchia Porco duro Gli ho porti niente Mare mi sa Signore Ascolti Mi dia il G63 A me gentilmente Grazie Oddio ragazzi Ma lagga tutto Ma cosa sta succedendo Aiuto Deve pagare Ma tu mamma Aiuto Raga lagga tutto Oddio Sto facendo 8 fps Perché Aiuto Guarda che sto facendo 8 fps Ma che cacchio ha fatto Signore Lo parcheggi nel garage Qui a sinistra Oh vedo malissimo Che succede Esca dal veicolo E risalvi Vedi bene ora No Aiuto Vedo malissimo Eh che vuol dire Vabbè dove 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 devo andare a parcheggiare Cioè glielo parcheggio io Signore Eh ma se me lo parcheggi tu Non è che si toglie È uguale È uguale Eh vammelo parcheggiare tu Rientri dentro No no ragazzi Che lei ha fatto spawnare qualcosa Raga che Cioè che mi ha rincoglionito tutto Oh ma questa qua è pazza Mi voleva investire io Oh non riesco manco ad entrare Secondo me ragazzi È qualcosa qui Aspettate che riavviamo Non so che cacchio è successo Ragazzi È impazzito tutto quanto Raga Non so Non so che roba è successa Adesso riavviamo Riavviamo boys Sì 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 Sto riavviando Non so che roba sia successa Si è buggato ragazzi Eh il run 1500 Non ce l'hanno Mohammed Non ce l'hanno Non me lo vogliono dare Hanno detto che non è disponibile Hanno detto proprio che non c'è Non è disponibile oggi il run Adesso poi Ci abbiamo messo tre ore a fare sta roba Bella diamante Grazie mille Bellissimo Grazie mille per aver regalato un lavoramento diamante Let's go No bacione bello mio Grazie mille Avete visto che è ritornato In finestra il gioco Non lo so perché Oddio Le cuffie però in teoria Si dovrebbero essere già caricate un po' Deve pagare il G63 prima del scorso anno E poi forse gli posso dare altro veicolo Allora io lo pago Sai che ha fatto? La sommella signorina sta sbagliando Signore l'anno scorso ha chiesto un prestito di 180 euro ad Alviac per prendere il veicolo Non ha pagato Io l'ho pagato ora Non ho pagato Ma chi è Alviac il proprietario del negozio qua? Del concessionario? Fatto Non ho ricevuto nessun pagamento Ma guardi per Dio guardi bene Massimera sta facendo furbo Tu Allora nel database lei punto 1 non ha il plus Punto 2 deve pagare questo veicolo Prima di procedere all'acquisto di un altro Se no non glielo possiamo dare Oh Massimera Ti devi muovere Sì porco duro Vabbè nel metro io vado a fare il full kit al mio Ciao Allora andiamo a fare il full kit Andiamo a fare il full kit raga Ci vuole un bel full kit Bello tosto tosto Oh aia aia mi senti Porco duro ancora Aia mi senti? Sì dimmi Oh ce lo rubiamo quel G63 Edge Rover No 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 io non rubo niente che sono utente gold plus qui Ma porco duro ma non è questo quel mio Sì sì No no ce lo rubiamo noi Ah fate voi io non c'entro Sei disposto a pagarla eh Oh ascolti signorina Ehm Dove Dove la concessionaria dove posso andare a modificare? Tutte 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 Ma questo è il suo? No no Eh Vada a prendere prima vedi se c'è perché se no gliene devo dare un altro Ok Al garage qua davanti Eh ma dov'è che si modifica poi? Poi l'accompagnerò io tranquillo Sì ciao ci metti tre ore e devi finire con lui Diamo in civico Eh non lo so signore Oh ma viene Un civico Ma che ti aspetta ci metti tre ore ciao Ma se sto arrivando Aspetta Ah io ti accompagnò te lo so dov'è il Che cazzo Eh vieni vieni Oh dove è che si prende? Qua? Scusate ma Ma il garage dov'è? Qua in teoria dovrebbe essere In pratica? Bò In pratica non si sa L'hanno fatto sparire No, no, no Che fine ha fatto Ragazzi, dall'altra parte E vai, vai, vai Che io ti seguo Direzione giusta, sì, direzione giusta Ah, ma è dove L'avevo preso con money, ricordate che una volta Ho messo money sotto qui Eh, ma questo Ma da dove si prende? Mamma mia che trigger Non capisco più Devi andare su, puoi fare muscolo F3 Fai, apri il garage e prendi il veicolo Salve Oh, non ho fatto niente, non dire bugia Andiamo, andiamo Aspetta, aspetta che lo piglia Che mi spiana Bugiardo Togli il puto a Yaga e ti metto il custom Buca le ruote, bugiardo Vai Vai Andiamo Il custom è qui vicino Vai Andiamo, 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 boys Punti scambativo token Vediamo un po' come va questo missile Porco duro si va, guarda, guarda Ed è senza full kit Ma che cazzo è partito qua? Spinge? Spinge sì Bestia Massimino si è perso Sì sì, Massimino è lento Guarda qua che bestione Forchi duri Forchi duri Oh, con questo si spinge, eh Con questo si spinge duro, duro, duro Guarda qua, sì, vai, visto? Belli carichi Guarda qua, poi Diagonale, vai, vedi? Senza full kit Sta bene Questo col full kit diventa una bestia Eh sì Questo sale pure le pareti in verticale, sai? È come il cavallo di Skyrim, questo Sì sì A voi è meglio Vediamo se c'è qualcuno Vuoto C'è nessuno E dov'è che dobbiamo andare, mo? Aspetta Cerchiamo un altro Trova qua Avete visto, ragazzi, che abbiamo fatto la scelta migliore? Se non c'è nessuno qua, andiamo da un altro Esatto Guardate qua come cacchio va sta roba Hai visto? Hai visto questo? Come va? Eh? È bello serio Nuova moda abbiamo lanciato adesso, lo sai? È bello solito Bello solito, sì Sennò che con la neve fa un po' il cazzo che vuole Eh ma è normale Immagina che le altre auto pattinano Check Nessuno? Qua, qua Salve Check Salve Buonasera Buonasera signori 8-07 Dottore Buonasera Eh, abbiamo un problema ragazzi Che dovete fare? Eh, dobbiamo fare Abbiamo finito le carrozzerie, abbiamo finito No, no, devo fare un bel full kit Questo Allora ci pensa Ci pensa lui Gli fai il full kit? Ciao P È bit ragazzi? Eh certo, è bit Ok, allora fai la fattura con la targa e poi tutto a posto Dove non pagano uno Oh, eh, ascolta fratello, volevo chiederti un'informazione Dimmi Mi riesci a mettere quelle ruote che aggrappano sulla neve, le ruote belle giganti? Ma tu vuoi quelle là col teschio o quelle là dentate? Eh fratello, non conosco né una né l'altra, io ti sto chiedendo a te Vabbè, ma te le faccio vedere Ma te le faccio vedere Eh, ma tieni, cioè tengono sulla neve, vero? Eh, dicono, ma non è così Eh, e non ce ne sono alcune che tengono sulla neve? Snino No, provalo a mettere, vedi, però no Ok Non è tanto la ruota Ok, va bene, mettimi qualcosa comunque di bello largo, capisci che si attacca a tutto quanto Capisce, non cazzo Grazie, perché Vediamo ragazzi, vediamo, vediamo, vediamo Secondo me sono meglio quelle dentate perché fanno grip Dici? Sì, sì, sì Eh, proviamo Verifichiamo Tanto con bit è gratis Sì, adesso Dato che non c'è niente da fare, verifichiamo Esatto Verifichiamo C'è qualcuno qua? Sì, sì Eh, Massimino Sì Ti devo parlare Mi hanno detto che bisogna mettere le gomme lisce se vuoi, se vuoi che vai sulla neve easy E sai che il G63 non sgomma, non va via per niente fra, tutto pulito sembra Sì Il merce, te lo giuro fra, dopo lo provi, vi un attimo con me Eh, la Lime gay Ascolta un attimo Dimmi Mi ha chiamato principe Ok Due milioni di dollari se raffiamo i reddi li massacriamo di motte, li mettiamo in ginocchio e li facciamo la foto Ma dili che questo lo facciamo anche gratis Eh, il problema sai cos'è? Eh Che noi lavoriamo per Kuroko e lui è contro Kuroko E te la senti tu di fare sta roba? Tu cosa mi consigli? Ascolta ma Ci servono i soldi però Sì però tu devi essere sveglio, devi fare questa cosa e non far capire che appunto che l'abbiamo fatto per questo prince Eh ma ha detto di dirglielo A chi? A i red Eh, ti ha detto di dirglielo? Sì Eh ma che cos'è che gli devi dire? Eh ma scusa ma prince e Kuroko sono in contrasto? Eh non lo so, dovrei chiamare signor K, capisci? Eh sì, eh chiamalo, chiamalo Chiamalo Ci ho messo di nero? Eh ma eh Tipo ti vesti di nero e metti voce modificata? No Eh sì No No Ho fatto una maschera Eh sì ho capito, è la voce? Deve fare un po' il vocione Ok va bene, ci sto, ci sto Ci sta Vestiamoci di nero e li spacchiamo di botte Sì Vai vai ci sta Ma solo botte? Sì sì sì, maschera di botte rapirli Portarli via maschera di botte e lasciarli poi in ginocchio Ok Ah tipo magari acciaciccio e lasciarli in ginocchio Ok 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 vai 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 facciamolo 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 Tutti Eh me lo faresti anche poi di colore nero? Sì Grazie Opaco Mi raccomando eh Mi raccomando eh Ruote Ruote bel grossi eh Ruote bel grossi eh Oh sì 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 Mi raccomando eh Ruote bel grossi eh Sì Bele grossi, belle grossi Quelle là belle larghe Oh questi Oh questi sono quelle che tengono più neve? Queste di regola Ah loro dicono che queste sono quelle che tengono più neve? Fanno caco Di regola sì Fanno caco Ok me lo fai provare prima? Certo Ok Ragazzi 100 euro Chi vuole andare là in fondo c'è una bella pantera Non mi manca una grazia Fammi provare che poi dopo ti dico Vuoi tipo fumo alle ruote o neon? Eh no 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 Non mettermi ste cose Mettimi eh neon sotto No anzi senza neon Senza neon Mettimi solamente fumo alle ruote Nero Classic Classic Non neon Nero Ok Aspetta che lo provo posso? Vai Andiamo a vedere se è vera sta cosa Che tiene neve oppure no Vediamo vediamo Ma le hai messe le ruote adatte? Eh sì sono queste Secondo me No Secondo me è uguale Ok ce l'ha trovato Fulchita a fare qua signore Sincero fanno un po' sbocco Ma che se ne frega estetica Di vedere l'utilità No 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 Proprio come tengono Fidati A me non servono al cazzo A me sembra uguale a prima Sì ma la pena giustata La devi stare distruggendo Eh no Non tengono niente Sono quelle prima eh Oh Mi faccio mettere quelle Quelle larghe Secondo me a far chiaro Guarda Quelle larghe Tiene molto meglio Capito? Secondo me Comisce male Aspetta che abbiamo superato posto Raga ma non è vero Che tengono Sulla neve Tengono niente Oh ma quello davanti Il posto passeggero Facciamo una sfida Il primo che accarezza La pantara vince No frate Io la lascerò in pace La pantiera Ma che Oh ma quella è la pantiera Fai io Wey Eh è là sopra La pantiera è là sopra Oh Sat vieni Aspetta 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 Che devo finire Devo fare full kit qui Ti vuole massimo Ma Di qua di qua Torni Opaco lo vuoi Sì Tu ci stai Vuoi fare questa roba qua Sì 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 Facciamola 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 Lei ha comprato tu l'EMG Sì Siamo in 4 200 su l'EMG Metti la Ascolta a me la fai grigia Argentata Fra argentata Stai zitto Scemo Ma stai zitto L'EMG Figa argentata Zitto scemo Zitto cane Oh ascolta Scemo Stai zitto E vai a imparare A fare le copertine Capito Al posto Che star qui No Dissing Oh fratello Ma ci muoviamo Ci mettiamo per questo cattorcio Che c'è un gioiello di là Che è bellissimo Non mettere a fretta il ragazzo Devi fare un lavoro fatto bene Sì sì Adesso faccio mettere I vetri oscurati Scusa Uè Peter Pan Scusa Non ho capito E te la sta pulendo Che bello Uè Peter Pan Oppure Qualche modifica spoiler Paraurto Eeeh Sì Sì vabbè sì Oh mettiti anche che diventa tua moglie Un transformers Questo La marmita col buco Così ci infili il pisiello Oh Zitti Cosa Paraurti anteriore Vada vada Che vada Ma a parte No quello della Brabus Scusi signora Ma gentilmente Ma glielo può Scendere Perché stava prima facendo il mio E poi E poi Questo qua si è messo di mezzo Gentilmente Ma lo può fare aspettare Maia Che non vuoi Se è quello il problema Eh Questo va bene in carbon fiber Dalla Brabus Scusi ma Brabus Quello Brabus Dietro Scenda scenda signore Lo faccio aspettare Come ho aspettato io Signore io vado a dormire Buonanotte Buonanotte signorina Buonanotte signorina Buonanotte signorina Questo questo Ok Cerchioni neri Me li può fare Questi neri Oh Sì vabbè Oh che palle No 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 Così mi piace Sì no Adesso ragazzi Mi prendo Le ruote grosse Eh lì Mi prendo quelle grosse Bianco normale Oh basta Però mi sto rompendo la minchia Tre ore Andiamo ora A posto Grazie mille Eccoci Eccoci Arrivederci Venga di qua Devo fare la fattura Aspetta Eh ma quelle fatture Che biz Aspetta Deve fare un dollaro Per forza Aspetta Spostati che devo fare la foto Alla targa Spostati Eh niente Massimino ha debiti di 300 euro Mi dissocio ragazzi Da Massimino Mi dissocio completamente Ti puoi mettere da questa parte così Mi detti la targa Sì sì vado vado Mi sente? Sì sì vai 90 J N 2 3 4 7 1 90 90 N J P RS 107 Allora 90 J J P RS 4 Fatto? Hai capito la targa? Se vuoi te la ripeto Non spostarlo Chi fa da sé Fa per tre Dov'è? Dov'è lui? Viengi 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 Signori viengi Vai C'è troppa acelerazione Ma sai cos'è? Allora Allora Dimmi Allora signore Mi devi mettere le gomme più larghe che ha Perché queste gomme fanno sbocco Ok Non ti piacciono Eh no Non tengono niente Perciò almeno li mettiamo sia belle grosse più larghe che ci siano i giganti Belle grosse larghe eh Queste Queste sono quelle più larghe? Sì Ok E E quali modelli ci sono? E no eh Nera Sì sì nere nere Queste Ok mi fa vetri oscurati e mi modifica tutto per farlo diventare bellissimo Spera per il mitico fire Grazie mille fratello per gli undici mesi Ti manca solamente un mese Facciamo un anno Un bacione Vetri neri come la pece eh Non li fa Non li fa Non li fa Non li fa Ma io volevo vetri neri Non li fa Non li fa Purtroppo non li fa Sicuro? Eh sì Non li fa Purtroppo non li fa Non capisco E che altra roba fa? Eh no Te l'ho fatto tutto Te l'ho fatto tutto prima eh Non c'hai Fulchietta è fatto? Sì 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 già fatto Ok perfetto grazie Oh ma devo andare a parcheggiare? Sì aspetta Fa la fattura con la targa Oddio senti la pantera Eh non ce li hai i vetri oscurati Allora sei sordo Guarda quello di Cabal Oh ci avete un po' di svapo Vaporart Sì vieni Ti serve il gusto Sì Vieni qua Vieni Hai visto che Usain ha cambiato la voce Aia? Tu come? Usain ha cambiato la voce Hai sì? Hai sì schiarito? Parla Mi hai sentito? Hai sentito? Ma come? Sì E perché? Ho fatto sviluppo Mal di gola Mal di gola Cresciuto Ma come ha mal di gola? O parla? Vieni qua Vieni qua Sì? Vieni vieni che devo farti la fattura Fatto? Fatto bello? Bello? Aspetta Eh sì però parla Devi parlare con me Fratello mi rompe i colioni Sta compilando Sta compilando Sta compilando Ecco qua Fatto? Tutto a posto Grazie Paga E mi raccomando Mettetela in garage E riprendetela Fatto Ciao ragazzi Ciao bello Ciao Andiamolo L'avete fatto? Eh il cazzo Oddio la pantera Ah quella pantera Ma io pensavo che tu dicessi Una bella figa Io ti chiamo La risposta No 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 Aspetta Opri mio fino No no Ti scappa la pantera C'è anche bella figa No no dicevo la pantera proprio Animale Senti come urla Buongiorno Sì? C'è Samira che ti vuole parlare Dov'è? Dentro Vuole entrare anch'io dentro questa mira è vero che mi vuoi parlare che ha detto sta cosa e me l'ha detto l'altro chi l'altro io questo in tutto il giorno che gli dici che lo salute se lui non ti risponde ti ma è vero è ma io non c'ho sentita ho preso una macchina questo fa cadare grazie prego grazie grazie bellissima prego avrei voluto latte però mi accontento anche di questo grazie eh va bene poi vado a prendere il latte eh ma io voglio il tuo tocca a chi tocca a chi tocca la rossa a me vedi che occhio è quello che tocchi dentro ah hai un panino? si perfetto perché il panino è un po' di tonno va bene? tieni io dico sì sì va bene va bene che buon odore che fai? per denis grazie mille bello mio denis secondo me sei bello mio un bacione scusa scusa ripeti anche tu ma hai sentito che cosa vuole che facciamo massimino? no ma io non ho detto niente no 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 massimino ho detto no ho detto hai sentito che roba ha detto massimino che vuole che facciamo? no no che vuole fare? spiegaglielo massimino che cosa vuoi fare? ah eh voglio spiegarlo a tutti però devi andare a casa capisci? ah ok andiamo a casa allora ok andiamo a casa oh entro il radio ahia per favore porca miseria non ha accettato non c'ho nulla e mi rompi con gli occhi ho capito ma qual è? 60 è vero e lascio per il tuo numero a casa di telefono che il mio? ma se ce l'hai già? eh fra ma quando ti chiamo non mi risponde mi da che è spento check radio check radio check radio ci sentite? perfetto andiamo 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 allora salire 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 che c'ho un veicolo troppo forte è nuovo guarda qua come va hai visto? scusa oh mettimi in casa mettimi in casa oh guarda questo fra scusate scusate non ho frendato in tempo oh ma chi è questa che parla? io che io ragazzi ho messo tutto il puma no è morto è morto il puma scappa scappa via scappa via è meglio scappare ok oh hai messo casa? si si ho messo casa avete visto come va questo? gli diamo la merda massimino con questo questo qua puoi andare anche sopra le montagne si si urca miseria hai visto? hai visto che bella accelerazione? si si massimino lo prende un po' nel cuo oh massimino abbiamo preso urca miseria wow oh c'è un veicolo massimino che va troppo veloce questo si mette qua anche per sbarrare strada vedi? bam perfetto fa da cancello bravo allora adesso voglio capire massimino che cos'è che vuole fare allora ragazzi venite qua per far tutti quanti messo oh oh porco porco duro fratello ti ha fatto sniffare la polvere bianca calmo calmo massimino calmo pezzo di merda beh ragazzi ci hanno proposto di fare una cosa molto pericolosa ok ve lo dico andiamo a rapire i red quindi dovete dirmi voi se accettate o no andiamo massimino il principe raga ci stiamo mettendo contro Kuroko così no eh sì in teoria se per soldi no andiamo allora ma vuoi fare vuoi provare a fare una cosa pulita sei sicuri ragazzi? oh se te lo dice proprio lui gli red stanno sotto Kuroko aspetta certo come noi e se noi invece ci vestiamo di un altro colore andiamo lì e li rappiamo è infatti quello che volevamo fare vestirci di nero ho capito infatti per me è anche bene così ci si beccano però rischiamo veramente di morire di morire avete capito i miei discorsi? eh sì sì mi spieghi un po' chi è vabbè dici che eh? mi spieghi un po' chi è il suo Kuroko? eh poi lo capirai più avanti sei nuovo quindi devo darti un attimo di fiducia no ok ho l'ho quella è stata fai bravo eh ma c'è le mani che mi prudono ma hai tirato una sculacciata fortissima eh lo so quindi ragazzi ci andiamo a cambiare di nero si è fatto tatuaggio? ci andiamo a cambiare di nero stavo facendo la tecnica di Kakashi però se l'hai presa Samira se l'hai presa ragazzi se l'hai presa volevo fare la tecnica di Naruto eh fratello mio qua se no non c'è movement dobbiamo andare dobbiamo andare e rischiare la vita mi senti? mi senti? signor K c'è? questi ci uccidono sti carassi non mi puoi dire di chiamare no 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 non ho fatto niente non ho fatto niente stavo cercando stavo cercando aspetta che stavo cercando una monetina qui porco duro non so dove cacchio mi è caduta in mezzo alla neve si ascolta ma mi dici di avvertire signor K per sta storia qua? si avvertilo avvertilo che io c'ho da fare ma non devi fare il porco di merda a me vedi qua vicino a me fucking juju aspetta non si doveva girare ragazzi è finito ma è ben toccato zona rossa ragazzi vai andiamo a cambiarci per soldi andiamo a cambiarci? in caso mai ci dovremmo riuscire eh possiamo andare a cambiare io mi vorrei cambiare con te se è possibile eh Massimino io vado a dormire notte 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 che va notte notte ragazzi notte notte che si va ciao buonanotte eh vieni con me a cambiarti eh andiamo tutti insieme no? si si andiamo tutti insieme eh dico vieni con me in macchina eh si si anch'io anch'io vorrei venire con te te lo giuro chi non vorrebbe oh vai di fianco vai di fianco si andiamoci a cambiare ragazzi oh dio tec oh non salite davanti che davanti ci deve salire solo Samira fatti i bravi mamma mia che rompi i coglioni che sei però forco duro l'ho tritato attento l'hai schiaffato eh ma non l'ho visto Samira ma ti posso dire una cosa ma dimmi da quando vedi ti oh fra 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 ma questi pazzi che vanno contro mano che siamo in Inghilterra ma infatti noi siamo nel giusto hai visto fratello con un'accelerata sono già arrivato qui ma di cosa ti droghi come non è qui no fratellino cioè full soon fratello stai zitto che c'ho vicino Samira quando c'ho Samira vicino fratello mi e allora vado dietro no no ma tranquilla vado io dietro tu stai davanti e zì va bene mi piace sempre stare dietro però se guido io è un problema oh sono i sbirri posso tirar il freno a mano sbagliato che cosa hai detto non ho capito che cosa hai detto ho detto che se guido io forse tiro il freno a mano sbagliato ti prego guida guida dopo guida 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 io voglio che tu guidi eh ma devo far patente ancora capito in che senso eh non so guidare ah vai tranquilla vai 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 andiamo andiamoci a cambiare ragazzi parla da solo guardate ragazzi c'è un culo che parla porco duro ragazzi guardate 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 ragazzi c'è un culo che parla da solo buona sera quindi 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 dovevamo vestirci tutti black ok si 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 spostatevi si ma te porta spesso a crap ripetino il coraggio poi non puoi ti sta cambiando dove ti devo spostare non posso wow o marmo cosa chiami o marmo cosa mi chiami adesso zitto per favore che mi sto concentrando a trovare i best ripeti al mio 3 cosiddetto flash danni non mi rovinare il mood flash danni a volo subito 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 si ma chi è questo ok oh bisogna cambiarsi vero si si ok ok oh i pantaloni ragazzi li mettiamo tutti uguali ok mettiamo quelli militari giusto io sono unica da solo femmina eh samira mi raccomando metti anche tu i pantaloni militari femmina ah ok allora aspetta porco duro dove che era whatsapp madonna telefon lo è diventato vibratore spammiamo foto spammiamo foto levatevi da davanti levatevi da davanti devo cambiare il numero di telefono ho capito no secondo me stanno stanno tipo un po' più indietro un po' più indietro 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 samira indietro cosa e devi tornare indietro li hai superati ma non ho visto ancora militari eh io li ho visti io li ho visti aspetta vediamo indietro indietro li hai superati bravo si li hai superati beh indietro li hai superati ancora ma dove vai dietro dietro sto rifacendo tutto ma vai piano perché tu vai veloce devi fare uno alla volta ti metti uno togli uno metti uno togli uno hai capito piano vuole insegnare a me hai capito e no che tu vai troppo veloce li hai già superati due tre volte io sono fast and furious cosa vuoi ah tu sei fast and furious io sono mister tre gambe adesso ah non va bene allora cacchio devi andare piano devi andare piano allora se ti va da Shane dov'è dov'è che foto che ho fatto porco duro che foto va indietro oh cosa guardi tu ti buco gli occhi figlio di puttana oh cosa guardi ti buco gli occhi ripetilo che c'è secondo ti giuro ma si metti spacco il culo ma si meno di merda ridateli tutto vazzi opera oh ma cosa è successo qui avete fatto buote io mi stavo cambiando è arrivato lui lui è stato prende per il culo mi ha ucciso perché non mi ha riconosciuto ma è tacco va spostato perché li parla li parla coglione hai preso su fortnite coglione allora là mi sono incazzato ha toccato il punto che non doveva toccare punto di ebole hai mi toccato i porti mi incazzò veramente scusami aia aia perché hai cambiato i capelli aia io non sono più non sono più non sono più sono Essen wow guardi le mani hanno fermato dopo un attimo il macetto che duro l'hanno fermato c'è ti è arrivato un macetto dammelo vi cambiate ci facciamo sto outfit nero si un attimo un attimo io fratello ho fatto ho fatto ho fatto il book fotografico capito mamma che morto di figa che sei ma fatti che cazzi tu hai tu no no sei un morto di figa oh massimino dammi dammi si è cornuto di merda parla ma tu sei un cornuto di merda ma tu sei un cornuto tu 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 ma tu sei un cornuto oh mi dite i pantaloni numero guarda questi questi mi metto questi mi sta salendo la pressione tranquilla che te la faccio abbassare io il signore adesso le scarpe solido vecchio vai oltre così fra spostati grazie io vorrei essere dietro non davanti guarda come risponde guarda qua oh giacche oh mi dici quella giacca che c'hai tu oh oh ussain 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 ce l'ha con te ussain se se gliela dico subito ussain dorme ussain ussain 578 grazie vuoi quello mio aspetta che te lo posso tieni la maschera questa la maschera ok ragazzi è mamma mia aspetta me l'hai passato? no niente non l'ha fatto aspetta guarda lui guarda lui ma che cazzo mi sono messo ragazzi porco duro che cazzo mi sono messo allora ce la facciamo? no e passami sto outfit ma non ho soldi non ho soldi nemmeno io siete poveri 500 dollari è merda fra bonus 1000 allora la maschera te l'ho data ecco la ricoltesca però questo perfetto non ci credo non mi sta la maschera le magliette sono quelle che mi hanno fregato avevo messo 15 io dai ok merda ma che cazzo ok ci sono ci sono ci sono guarda qua è quella del balance morto che mi ha dato Brian ok guardate qua ragazzi ehi aspetta aspetta ovviamente mettiamo la canzone giusta per questo mood qui ragazzi questa ragazzi è il mood giusto parte qua mi saluti sono Aurora ciao 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 Aurora guarda qua fratello si spacco guarda beh ci sta eh guarda qua guarda qua guarda questo che finisca me lo passi la maschera zio pera ma te l'ho data ma che mi ha dato si guarda oh mi dici quella maglietta che avete hai visto e mi dici qual è si ma mi serve un cappellino sopra ragazzi oh massimino si mi dici la maglietta questa magliette si ma mi dici 538 ma tu col cappello stacca dai oh andiamo 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 che mi son rotto guarda la maschera ce l'hai si si andiamo andiamo dai ah io cerco la maschera poi ci sono guarda che cappello che ha si vede qualcosa l'opera si vede un po' di ciuffo che esce dal cappello chill 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 non dovresti vedere la coglione di merda sai come sono gli altri guardate 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 quante foto ho fatto oh aglià ci sei si è un attimo che mi sto mettendo uno sfondo nuovo il telefono ok ok io ci sono porco duro ehi avete visto ragazzi lo sfondo andiamo oh ragazzi mi sentite si andiamo si oh andiamo ragazzi ci siamo si andiamo 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 ma ragazzi vi spacco le ossa avete già cominciato a voler salire prima di me vi spacco in due andiamo a prendere il giupo che è tanto così ecco oh andiamo a prendere il giupo antiproiettile aspetta che pigli in braccio il ragazzo aspetta che pigli in braccio questo pigli in braccio per favore pigli in braccio tu fratelli di fianco a me oh andiamo a prendere il giupo antiproiettile giupo antiproiettile giupo antiproiettile giupo antiproiettile aspetta tutti i stili davanti quanti sono belli oh guarda oh c'è la bandiera albanese hai visto la bandiera albanese è questa ragazzi ci fanno fratelli shiptari oh raga dimmi questa vero allora per questa metto questa per i fratelli shiptari metto questa e in quanti siamo in auto raga quattro nel class tu le madri ok questa questa bella per il mitico zeno grazie mille fratello per il secondo mese zeno bentornato un bacione oh oh dov'è che andiamo andiamo a rapirli si si dobbiamo rapirli mi raccomando dobbiamo cambiare un po' la voce ok 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 civico oh raga mi raccomando se voi non cambiate la voce si 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 tranquillo così non mi riconoscono fratello ci pensiamo io 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 oh voi voce sottile voce grossa no no grossa grossa ah 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 oh perché si è perfetto andiamo così e pochi due si è mamma mia oh mi dove è sempre normale credo che non c'è il quale si sono bambini cipo 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 il civico il civico dei red i pompieri sono qua vicino vai avanti ma dritto poi mette i pompieri dove cazzo stanno aspetta proprio bravo bravo sono dietro comunque sono dietro l'ora c'è una mattina qua davanti da una l'entrata è una urus tipo una gtr muoti però io non stare fermo qua è un ottimo un attimo andiamo duri andiamo duri adesso occhi aperti ok ovvio fra lo sai no 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 non vedo più niente è poco duro cosa c'è su tutto a passo aspetta 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 che devo fare un pofettino veloce arrivo subito vai quando switcher ragazzi mi fa così porca miseria un nuovo bug tipo cubana scusa non avevo visto aloeaki oh ragazzi dobbiamo completare il sub goal porca miseria che mancano i beats mancano i beats boys fai alti invio secondo me perché ce l'ho in full screen adesso li tolgo il full screen li tolgo il full screen e lo metto e lo metto senza bordi perché quando switcho da lì ad obs oppure a spotify si bugga ho capito si 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 adesso 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 sistemo christian hai ragione mi limita gli fps bella alveacchi è che annusa ma cosa annuso a caso adesso adesso sistemo tutto ragazzi dobbiamo andare a rapire i rossi ecco ma cosa vuol dire che è che che hai già i 150 sub fra è perché un sacco di gente ragazzi ha riscattato il token di 5m mamma mia diamante sempre lui ragazzi che fulla il beats goal sempre diamante ragazzi che lo fulla 1500 beats così mamma mia grazie mille bello mio oh attenzione twitch ragazzi ha regalato 150 beats a diamante ragazzi essendo essendo che lui ha droppato i beats ragazzi twitch gli ha regalato 150 beats che durezza eccolo qua ok ho sistemato ok andiamo andiamo ascolta aia che mi dici di chiamarla kuroko ma ti ho già detto prima di sì porco duro non hai ancora chiamato non mi ha richiamato lui non mi ha richiamato e richiamalo eh ma questi guarda che non ci sono qui eh ci sono ho visto la macchina rossa prima di andare via e sei andato dove eh eh non lo so eh tu poi hai dovuto puffare capisci non ho visto dove è andato no ha 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 dato il 10 in più a me grazie mille grazie mille diamante gg ragazzi per diamante ma ma si è fullato anche il beats goal anche il beats goal ragazzi si è fullato porco duro si se non ce l'ho fatta lasci perdere è stato un'impresa che duro ragazzi abbiamo fullato tutto oggi io il numero non ce l'ho salvato e non lo salvo per sicurezza mi ricordo ragazzi il token mi ricordo memoria punto escamativo token ascolti un attimo rockstar ragazzi ha messo a disposizione 600.000 token gratis che sarebbero 600.000 abbonamenti gratis che vengono droppati se guardate la live di GTA 5 RP perciò mi raccomando ragazzi se volete l'abbonamento qui per non vedere più le pubblicità e non vedere più rotture di palle molto semplice il token droppate il token che tanto ci sono i drop attivi oh fartialo non c'è niente fartialo ecco lì ecco lì ecco lì ecco lì oh l'hai visto? oh ma ti svegli? oh li senti? non ho capito signor K è un rosso un rosso un rosso aspetta lascia stare un attimo fermo meno dei 5 e 6? ragazzi gli sparo? no no ascolta 7 milioni se ti rapisco i black street e i vago ti rubo la droga? va bene adesso ah ok perfetto allora ci penso io arrivederci oh ma questo è un rosso ascolta un attimo ascolta un attimo ascoltate raga oh c'è un rosso dietro ti svegli? mi ascoltate o fai di testa vostra io sto ascoltando ascolta mi ha chiesto 7 milioni se rapiamo i black street e i vago porca troia e di rubarli tutta la droga del principe mmm ah perciò ah perciò ci da 7 milioni? si quindi andiamo sui 7 milioni lasciamo stare presto il principe ah andiamo dai vagos mettimi ci fico dei vagos allora dobbiamo eh ma dobbiamo rapire i vagos si e black street e vagos eh mi sentite ragazzi check 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 ragazzi nuova priorità 7 milioni se prendiamo i vagos e i black street ripeghiamo tutta la droga forza eh ma come ripeghiamo tutta la droga cioè li dobbiamo rapire tutti si abbiamo dei vagos ci facciamo venire lì ci dobbiamo dobbiamo essere svegli raga dobbiamo divincere in due gruppi uno prende i black street e uno i vagos fate voi street e noi vagos che siete più brevi a sparare dai ma ma dov'è sto civico porco duro oh ma immacchiala con me chi c'è oh ma non ho servito a un cazzo voi altri due ma è vero ma cosa non scordo servi spiegami non mi vuol GPS grazie mille diamante per altri 200 bits bello mio che duro diamante perché non mi metti civico tu massimino sono cose le devi far tu massimino le devi far tu queste cose ti devi svegliare massimino ma non mi rompe i coglioni svegliare perché cosa vi troppo sveglio io sto facendo dici mila cose parli in radio mi chiama quello rispondo all'altro mi metti civico massimino che mi spavolta questo è di vagos dai vai vai lo vedi o no si lo vedo ok ma chi è che c'è oltre noi tre alban alban ok mi sono messo voce ma questo è qua e dall'altra parte il cacchio è qua e niente qua qua ma la fermi di contatto appena troppo atto il token grazie mille bello mio ma sicuramente non ci saranno come al solito non ci sono questi eh oh ripieghiamo sui black street vai black street sono qua mi sentite liam mi senti liam oh Samira attenta che c'è un po' di problemi di corde sto sto girando con voi con i black street perchè non ci sono i vagos non parlo quindi prendiamo ti non sistemano ripeti per favore ripeti no ma ci sono ci sono in giro per forza raga ok porca miseria prima prima avevamo un rosso eh lo potevamo prendere il rosso ho capito ma non ci sarà non so è andata contro il cat caffè che magari c'è il signor muschila il miglior amico di ciccio si ma mi guardi un attimino tu Usain che faccio? eh non ci sono eh adesso ti guardo dimmi se c'ho la mascara nera che non la vedo ce l'hai viola ma porca puttano oh no non ci sono questi porco duro ma c'erano i rossi ma perchè non li abbiamo presi? mamma mia doppia grazie mille per il mitico fake doppia caffè ne ha regalato un altro bonamento bello mio tu tu fratea sei un pazzo sgravato siamo a 148 bonamenti mamma mia diamante grazie mille ma non ci sono mod stasera boh non lo so sinceramente non lo so ok ce l'ho nera giusto diamante hai sbloccato lo stem per aver regalato 5.000 bits bello mio 5.000 bits hai regalato prendiamo il rosso lo minacciamo e allora vedi che prima dovevo prendere quel rosso che era lì ma mi stava parlando cappa capisci ma non sei un buon affarnaminchia oh 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 ahia mi hai rotto il cazzo posso dire che mi hai rotto i coglioni ma stai zitta devi stare zitta grazie c'hai un criceto lì porco duro che è tutto zoppo ma criceto che non riesce manco a girare sulla ruota porco duro sei 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 proprio zoppo in testa tu ti devi svegliare dottori devi svegliare ascolta eh stavo parlando con il signor cappa capisci eh cappa ah ma cappa 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 cappami la minchia con il signor crocco c'è il signor crocco ci ha fatto sfuggire la preda perchè io dicevo spariamo e spariamo lo prendiamo lo prendiamo lo pitto lo spingo tu sei sei devi temporeggiare e mo dov'è che te lo trovo x street l'avete visti mi sa che non ci stanno anche quelli mi sa che non ci stanno eh è tardi fratiello eh eh raga non ci sono raga prendiamo sei red raga facciamo sto lavoro e vaffanculo eh ma i red dov'è che saranno andato a fare qualche incontro o qualcosa eh e magari qualcuno da solo lo becchio e io fratello sto girando ma da shane dove è andato da shane che aveva la radio dei red raga ma non è che è andato a dormire non lo so mamma mia per il mitico x genii grazie mille fratello paramento di livello 1 però ha troppato il token anche lui le sghiera è bello mio grazie mille bro bella samix sono divano voli da shane benzina sì sì adesso adesso ragazzi sono divano voli da shane no no poi devo devo far pieno chiamolo chiamolo un attimo chiamolo un attimo vedi dov'è no 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 non ho capito ripetelo mi ha detto questo mi ha detto tutto ok è tutto ok tutto ok sto facendo gioio benzina ok stai già facendo tu ok stai già facendo tu oh è tornato quello e scappato via si 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 cagava addosso so stronz no no guarda il guardo il guardo il guardo è ancora là no ti svegli oh zitto che per fare il pieno questo devo fare mamma mia che rottura di palle faccio sclerare boss mio ma perché devi fare il nervosire spiegami ora che non mi sale vai indietro vai indietro duro che è scarso allora c'è qua se cazzo ridi Samira cosa ridi oh 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 porta rispetto a Samira subito e chiedi gli scusi brutto cani di merda ti sei frequentando tu pensa che vanno uscire noi stai zitto stai zitto animale animale del cazzo stai zitto sei il mio sottopalla capito devi stare zitto sei nella mia auto regole mie auto mie regole mie quando siamo nella tua regola tua ok porta rispetto alle donne animale aspetta adesso me lo ripeto cosa 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 la merda rosa che in bocca tua riposa ti devi svegliare dottore ti svegli a groove cosa c'è a groove c'è sta minchia ti devi svegliare massimino stai zitto chi c'è groove e che cazzo me la frega madame la polizia e devo prendere io oh dio sclerato andiamo groove straight andiamo groove straight c'è la polizia vabbè sti cazzo ma noi non abbiamo paura di polizia oh vado groove si si vuoi vedere che cazzo sta succedendo oh ma quali civico è che che mi avete messo lì sveglia eh i vagos vagos ancora ma non c'è nessuno lì no questo è black street mi sembra vabbè è vicino groove street passa davanti un attimo di black street con la scusa niente niente vormone vado vado mi chiamo il signor kuroko vado ok black street e vago se non ci stanno bravo Porco duro ragazzi Lo faccio, lo faccio Giuro su mamma Non becchiamo nessuno ragazzi Mamma mia attenzione Un altro apportamento ragazzi regalato dal mitico doppia Mamma mia fake ragazzi È un pazzo sgravato raga Fake ragazzi è un pazzo sgravato con un totale Di 150 sub Oggi Mamma mia Solamente lui ragazzi ne ha droppate 23 Ah va bene Mi chiami lei quando c'è Tra quanto più o meno Solamente lui ragazzi ne ha droppate 23 solamente lui Sì Sì Non l'ho capito scusa Mamma mia ragazzi altri 5 apportamenti Troppati sempre da lui ragazzi è un pazzo oggi fake Fake ragazzi oggi fa il pazzo Spon di gg per il mitico fake ragazzi Spon di gg per fake Fari una foto e di lì per il principe andare Ma lì sono visto pure di nero Passo ragazzi il fake oggi Altri 5 apportamenti ragazzi Passo sgravato raga Passo sgravato Dai e quando finisco la chiamo Oh 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 Ok arrivederci allora arrivederci Allora possiamo farlo tranquillamente Ok Dobbiamo prendere i red forse Eh fratello non c'è Mi sentite mi sentite mi sentite Oh chiama cicciocchi di lì Prendiamo sti red secchi Eh ma chiama cicciocchi di lì dov'è Eh no così capisci che siamo noi Ma chi capisci No dico che ci sono mucchi di polizia in giro se sa qualcosa Bravo bravo E poi lì dico oh ma dove sei tu Oh ma dove siete ficati voi Che c'è un bot di polizia Abbiamo bisogno di aiuto Lì dici così E dili che c'è un raptor nero che gira Dove ti pillano a noi Mi ha staccato mi ha staccato Eh richiamalo Eccoli 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 Un red un red un red Hai visto? C'è un red forse Sì Ma ecco Cosa? Ma dov'è? È lì lo vedi? Guarda Hai visto? Sì ma non pensi al red? Eh come no Hai vestito di rosso Hai visto? Sì Questi? Sì Allora dopo che mi state guando la macchina Ma la provate ad aggiustare Perché l'avete rotta tutta Oh ma sono nostri questi Sono i nostri questi neri Oh viaggio il tuo eh Eh cammina fra Ma poi tiene di brutto Sì Sì Poi te la faccio provare dopo Sì Ma non è che abbiamo fatto la scelta sbagliata Sull'auto Ma non è che abbiamo fatto la scelta sbagliata Sull'auto Mettate il consenso anche a KDF Ma che cacchino Fenomeni hai eh Fenomeni guida Ok c'è a Leon Bravo Guarda il palettone Così presi il pandore Andiamo più veloci noi ragazzi Andiamo più veloci noi ragazzi Ma che è sbagliato tutto Andiamo più veloci noi Guardate Guardate come li stiamo recuperando Guarda E' molto frenando Andiamo più veloci noi Oddio Oddio ragazzi Fake Mamma mia fake ragazzi Altri dieci abbonamenti Ma cos'è ma vuole fare Cioè ma vuole battere Il mio record Il mio record è impossibile da battere ragazzi Perché sono stati tipo Duecentosessanta abbonamenti Mi sa Ma io non so manco dove abito In una singola live Ma è matto ragazzi È matto Solamente lui oggi Trentotto abbonamenti regalati Da parte del mitico fake Mamma mia ragazzi Altri dieci abbonamenti ragazzi Spon di GG Mamma mia diamante Altri cento bits Come si fa a diventare mod? Bisogna essere innanzitutto Sub E stare un sacco in live Più uno sta in live E più noto che magari Ehm Ha proprio a cuore La live E l'andamento Della live E di conseguenza appunto Poi droppo il mod Che duri ragazzi Porca miseria Oh Mamma mia Altri dieci abbonamenti Oh fraccello Io sto seguendo loro Però fraccello Non c'è niente eh Eh no fra Niente eh Eh allora fratello È meglio che andiamo a dormire Oh non c'è più niente qui Eh non c'è un cazzo fra Quello che mi scogliono a me Ehm Se sono andati a dormire tutti E' tardi E' normale La gente domani lavora Domani sera Dobbiamo aprire gli occhi prima Però capisci Eh sì Certo Alle otto A che le otto No coglione di merda Scusa 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 Si è rotto Accelera lui da solo Meno male Coglione Esplode Esplode Non fare il coglione fra Oh Mi sparo Mi sparo bastardi merda Ma cosa vuoi oh Ti svegli E' autorotta Ma autorotta Ma autorotta Ma cosa vuol dire che Ascolta se l'hai perso Controlla sotto i sidili Che lo trovi No non c'è sotto i sidili Ecco ma come ti andai Secondo te Aurora Per colpa di qualcuno Che va addosso la macchina Ma che cosa stai dicendo Fratello ma chi è andato Addosso a chi Non è colpa mia So c'è un bestione Basta Guarda lo sportellone Andiamo a giustare l'auto Lì a per favore Vai va Grazie Facciamoci ancora un giro Giustare l'auto Noi ci facciamo ancora un giro Ok Ma vai fatti in giro Andiamo a giustare Sì 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 Sto andando Eh scappa scappa Eh Ma vai vai Tu vai tu vai Ok vado Ok vado Ah no non fare Non fare Che cosa Mi hai detto vai Ma sto parlando in radio Eh non si capisce niente Fratello però Tu mi fai diventare scemo Te lo giuro Ma tu mi fai diventare scemo Fratello Ma tu mi fai diventare scemo Che non capisco Eh vai La metti in garage Punto Porco duro Fratello Ma quello Ma quello Ma sono pazzi Ma sono pazzi Oh Mi hanno rotto il villicolo Fili di puttana Porco duro Fili di puttana Mi hanno sparato il veicolo Hai visto Mi hanno sparato alla gomma Te lo giuro Mi hanno sparato alla gomma Merda adesso come li spalmo lì Da qualche Ti stanno Ti stanno bene Sì mi sta bene Sta bene Prendi Prendi Infame Welcome to the rocket league Oh ma cos'è Oh ma sei pazzo Cosa fai Oh Ma cosa fai Sei pazzo Cazzo Ma cosa fai Sto moscerino qua Sto moscerino qua di merda Oddio Oddio ragazzi 25 appornamenti Porco duro 25 appornamenti ragazzi Appena droppato 25 appornamenti 25 appornamenti ragazzi Da parte di fake Non me ne ero nemmeno accorto Porco duro ragazzi 20 Così Così Solamente oggi ragazzi Ho droppato 63 appornamenti ragazzi Ma è pazzo Ho sgravato questo Ma questo ragazzi Non sta bene in testa Ma non sta bene in testa ragazzi 25 appornamenti 25 appornamenti Grazie mille Nabil Per il secondo appornamento ragazzi Spandi GG Spandi GG Sulle madri per lui ragazzi 5-7 dai 5-7 dai 5-7 dai Sulle madri per lui ragazzi È un pazzo È un pazzo Sulle madri Mamma mia Altri 5 appornamenti Porco duro ragazzi Altri 5 appornamenti ragazzi È un pazzo Non posso urlare È l'una di notte Stai zitto Massimino È l'una di notte ragazzi Non posso urlare Porco duro ragazzi Porco duro 25 appornamenti ragazzi Droppati così Fermati Fermati Che sei un pazzo sgravato bro Sei un pazzo sgravato Questo è per te bello mio Questo è per te Oh fratello Io devo sistemare il veicolo Eh questo forse lavora qua Mamma mia ragazzi È un pazzo Mamma mia che pazzo 65 appornamenti Droppati oggi ragazzi A quanto siamo oggi? È un pazzo raga È un pazzo Mamma mia Ha regalato un altro appornamento Sempre fake Mamma mia che duro ragazzi Fake Ha regalato appena un altro appornamento 197 appornamenti oggi 100 Ripetimelo 197 appornamenti raga E' pazzo raga E' pazzo E' pazzo ragazzi Ha rubato la carta di credito a qualcuno Raga E' pazzo E' pazzo E' pazzo 5-8-7 dai Pazzo Oh ma c'è qualcuno che mi può aggiustare il veicolo 5-8-7 dobbiamo andare Vai piano piano Ma che piano piano Ma mi hanno bucato la ruota Ma vedi che sono scemi Madonna Non c'è proprio più Aspetta che ho chiamato Pazzo ragazzi E' un pazzo E' un pazzo sgravato Ma ti ha risposto Ma è il nuovo pc quello di Massimino No 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 Ger E' sempre lo stesso E' in città Perché è quello di primo Porco duro ragazzi Porco duro Oh Allora Oh Massimino Se continua così Porco duro C'è successo senza vicolo Me l'hanno bucato Ma è fra Era un peccato Riesci a Riesci a riparare la ruota Per favore È urgente Ma con me vuoi fare queste cose Scemo di merda E' arrivato Mamma mia ragazzi Ma oggi ragazzi Pazzia ragazzi Non mi sarei mai aspettato Che la live di oggi fosse così Bella Nick Grazie mille fratello Per i 21 Mesi Nick Un bacione bello mio Grazie mille Nick Grazie mille bello mio 21 mesi Guardate come va bro Tutto bene Tutto bene bro E' tutto bene Come? Fu Io si sto bene E te? Ma chi è questo? Oh son geloso E' buono che ho conosciuto ieri Eh mettili giù Mettili giù e bloccalo Ok Ci sentiamo dopo No 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 Dili No dili mai più Ciao Aspetta Puh massimino Puh Puh Cane scarso di merda Oh mio dio Altri Altri 5 apponamenti Ragazzi da fake Ragazzi Ma io non so che cosa sta succedendo oggi ragazzi Che è successo? Non ne ho idea Chris Manca solamente il tuo prime Chris Ed è la ciligina sulla torta Altri 5 apponamenti ragazzi 74 apponamenti Ha regalato oggi 74 apponamenti regalati Mi senti liam 74 apponamenti regalati oggi raga Forse ha sistemato Col tirapugna Sono un pezzo di merda Se no pidevi il cazzo Lo sai Oh ma sono red quelli Zetta zetta No Pazzo ragazzi C'è 75 apponamenti Solamente da lui oggi Abbiamo pagato solamente il raptor Bravo bravo Momo Abbiamo ripagato il raptor Con sta live Che durezza ragazzi Oh ti ringrazio Justin Bieber Mi sono fatto a cazzotti con io Le ha presi Le hai presi lo stesso Mamma mia Ciao te E da tanto che non entro in live Ti voglio bene zio Mamma mia David che cosa ti stai perdendo Per tutti Ecco Allora per tutti quelli ragazzi Che mi chiedono dove sono le live Le live ragazzi Non vengono salvate direttamente su Twitch Ma le trovate direttamente su YouTube Ok Nel canale Tecnoid Games Mi raccomando boys Le live Le trovate direttamente su Tecnoid Games Se qualcuno se le vuole recuperare Direttamente su YouTube Mi raccomando boys Non tengo i volt salvati su Twitch Grazie mille Bialu Ti faccio la vattura Sì a me a me Oh scusa Eh Falla a me dai Massimino Eh l'ho fatta Già l'ho fatta Massimino Sì? Eh non l'ho fatta a posto Mi tocchi un'altra volta Ti sfondo Sfondo Vai 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 Che cazzo minaccia Vai minaccia Fammi allontanare va Tu e le Pezzo di merda Oh è me Prendi la tua auto Che l'ho fatta Oh fra Coglione di merda Mi hai fatto picchiare la mia donna Porco duro Che miseria Samira Proprio qua sul culo ti spingo Perché so che tu c'hai più sangue qui Samira Perché così il sangue si ridistribuisce Samira Dai riprenditi Samira Eh me l'hai portata l'auto Eh sì valla a riprendere che sta fuori Perché l'ho Se no la vedevo rotta io Samira riprenditi Mamma mia è fake Grazie mille per aver regalato un altro abbonamento Fake Muah frate Ma guardalo Ma guardalo il merdoso ragazzi Ma guarda il merdoso Mi hanno fatto Mi hanno fatto Mi hanno fatto Mi hanno fatto Dai per favore riprenditi Mi hanno fatto ragazzi Alle spalle Quando non leggo Aiuto raga aiuto Mi hanno fatto alle spalle Quando non vedo ragazzi Ma che è successo? Dai vedi un attimo Spostati un attimo Samira spostati Ah no ok Non ci erano ripresi Ahia porco Ormai chi è che mi ha fatto male God Oh ma sei stato tu? Va bene Andiamo Andiamo che non c'è tempo Andiamo Eh lui devi tenere l'auto mia Tu ce la sei riparatela tu Adesso me la riparo anch'io No è giustata Giustata Eh a posto? Stai zitto Spostatemi dietro Oh ahia Ahia basta basta Massimino basta Stai troppo più forte lo capisci Senza il tirapugno non sei nessuno Sposta Ma perché sempre me o Ma perché non ti sposti? Sì perché mi distraggono gli altri Massimino Levati dal cazzo Ah ahia Porco du Oh in due Hai capito pezzo di merda Devi stare giù Ma vanno in due infami Oh no Mi spacco cazzo Mi devo spaccare Pietro io sono troppo più forte di te A mani nuda quando vuoi Capisce non capisce Hashtag 2v1 ragazzi Hashtag 2v1 2v1 ragazzi Ah ahia Ah ahia 2v1 gli infami Ahia Ma questo è riparato Mi scusi Ma per sicuro che ha popolato Perché mi picchiavi tu? Eh perché mi picchiavi? Tutto fatto Tutto fatto Grazie Questa qua Questa qua Tutto fatto Tutto fatto Grazie Ciao ragazzi Ciao bello Andiamo Ciao Ciao Gigi Ciao Gigi D'Alessio Oh no Non lo so Ma ti muovi? Oh cosa fai? Cazzo Mi devo pure riparate E niente Spesso che lo riprendo in velocità tanto Guarda il guarda il guarda Ha sbandato Ha sbandato Ah no Doveva curvare Mi tiro una pacca Mi tiro una pacca Che vola via Oh ma dove sta andando? Eccolo Scusa ma perché è entrato qui? A casa Eh ma dov'è che l'ha messa? Nel garage E' lì in mezzo Ma è perpeggio Allora basta sta andando a dormire Penso Penso Poi non lo so Sì 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 È tardi Tarde Mamma mia fake Grazie mille bello Per aver regalato un altro abbonamento Al mitico FedEx Grazie mille fake ragazzi Uno spam generale in questa live GG a fake ragazzi Perché Ha fatto il devasto in questa live ragazzi Voglio proprio uno spam generale Perché ha regalato Un botto di abbonamenti ragazzi Spam proprio di GG A fake doppia ragazzi GG a lui Oh andiamo a dormire Massimino? Sì Ok Allora dico Buonanotte Buonanotte Notte notte a tutti Notte a tutti Notte E niente E niente Io lo so Bastardo C'aveva il costello Il marocchino con me Perché sono calabrese Capisci Io ormai ti conosco Ma lui è russo È andato Mi metto qua Io E basta E niente Porco duro One punch man Porco duro One punch man Call me one punch man Cosa cosa? I'm going to store I'm back Mi chiamano wolverine Mi chiamano wolverine Polverine è la schifia What? What? Ma nemmeno sfruttare Sai guarda Guarda come si fa Guarda come si fa Oh sarti Mi basta Ti sei spettato la maschera Ma ritirati sul caraggio Chi sono wolverine Aia Addiero Ma il cos'è Troppo potente Porta duro Wolverine Ognuno wolverine Wolverine Oh Oh basta Ha cambiato Ha cambiato arena Ha cambiato arena Che cambio Farò venire Farò venire Farò venire qua Ti metto di una macchina Io Oh ti sta aspettando Nell'altra arena Ti sta aspettando Wolverine One punch man Mi piace wolverine Aia Aia Ma è partito Oh ma sono fermo Mi sto facendo triggerare Porca puttana Bastardo Ma io sono fermo Scusatemi Sono troppo più forte Lo so Quando uno è forte Ero fermo Ero fermo Stavo facendo altro Vieni adesso Pezzo di merda Oh coglione 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 di merda Coglione di merda Adesso Adesso ragazzi Lo spacco Grazie mille Kat che ha regalato Un apparamento Col token Grazie mille Grazie mille Grazie mille fratello Per il terzo mese Se ci andiamo tutti quanti Alla festa Coglione 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 di merda Non vale Non va Non vale Non vale Coglione di merda Coglione di merda Ah pure tu Le vuoi? No 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 Vieni qua Vieni qua pezzo di merda Vieni qua Vieni qua pezzo di merda Coglione di merda Coglione di merda Di spazio Hai capito Di spazio Porco Aspetta non è il contello Zetta Zetta Di spazio Vieni 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 qua Che cazzo Devo venire pure io alla festa Dai Chi vinci Un bacio Coglione Ma non c'è il tirapugni Dov'è andato? Abusatore Cosa fa? Ma dove è andato quella merda? Eh abusa Lo spacco ragazzi Eccolo Oh è a terra No Enni Ce ne prendi Sono Wolverine Sono Wolverine Mettiti il tirapugno Al posto che il coltello Che è fortissimo A terra Non ci sono Non ci sono Non ha capito adesso Come bisogna fare Non ha senso sta cosa No 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 Wolverine Pezzo di merda Basta Hai finita male a pistole Ragazzi Cosa fai? Cosa fai? Hai finita male a pistole Oh ma non si prende più questo No no A terra Wolverine Ma ragazzi Non ho parole Vieni qua Eh tu c'hai il coltello eh Pezzo di merda Ahia Scappo 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 Ma vai a cagare Coglione Coglione Oh ma non c'è un coltello Terra zitta Porco duro Porco duro Oh ma non c'è un coltello Bleh